Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per essere qui con noi su questa seconda giornata di un seminario che interessa la valutazione in caso di liquidazione a quota di società. Grazie perché anche il tempo, una mezza giornata nel mese di maggio, sappiamo che comporta un sacrificio di tempo che inevitabilmente poi richiede un recupero in tempi già molto compressi dal punto di vista lavorativo. Allora io non perderei tempo, passerei subito la parola al primo relatore che ci parlerà di metodi patrimoniali, solo una premessa che riguarda i lavori della Commissione sulla Valutazione d'Azienda, la Commissione o il gruppo di lavoro sulla valutazione d'azienda, qui al tavolo c'è Luca Malfatti che è il referente di questo gruppo di lavoro. Sarà in tempi relativamente brevi predisposto un programma sugli momenti di incontro, che possono essere momenti di incontro del gruppo piuttosto che eventi formativi e che interessano i temi della valutazione d'azienda. L'ultimo evento è stato l'evento sul tema dell'incertezza, che ha avuto un discreto riscontro, abbiamo potuto notare sia qui in la sala dell'ordine, sia in termini di accessi, di visualizzazioni sul canale YouTube. Quello è stato un evento al quale seguiranno altri eventi, sempre sul tema dell'incertezza, che rappresenta un aspetto molto complesso, soprattutto nella valutazione d'azienda, e che in un certo modo deve essere governato al fine di non arrivare poi a esiti delle valutazioni che possono essere molto distorte rispetto alle espressioni di valore che devono determinarsi. Quindi su questo poi appena sarà compiuto questo programma, sarà naturalmente circolarizzato. Tenete presente, dirò un'ovvietà, però è importante ribadire che i gruppi di lavoro sono dei gruppi di lavoro aperti e che quanto più sono alimentati da proposte, iniziative su temi di carattere operativo, pratico e che quindi interessano l'attività per chi si occupa di valutazione d'azienda. Quindi qualsiasi iniziativa che vogliate rappresentare o proporre sarà naturalmente esaminata e ben accetta. Bene, allora io passo subito la parola al professor Gromis di Trana, che ci parlerà dei metodi patrimoniali e quindi tutti gli aspetti legati alle rettifiche di valore, degli asset e con il riferimento ai valori di mercato. Quindi a te la parola. Bene, grazie mille, buongiorno a tutti, è un piacere per me essere qui. Si parte dal metodo patrimoniale, che è il metodo storico, metodo che in qualche modo è anche quello di più immediata comprensione, perché in passato era particolarmente utilizzato perché non richiedeva particolari tecnicismi in termini di matematica finanziaria e quindi questo ha per molti anni reso questo strumento particolarmente utile per le valutazioni. Quello che ci tengo a dire è anche la luce dei valori che vedo e del tipo di approccio delle perizie che vedo è che comunque, a prescindere dal metodo, il mio personale consiglio, guardando anche quelle che sono i valutazioni fatte da molti colleghi, è quello che non bisogna mai in qualche modo piegarsi ai tecnicismi. Nel senso, i tecnicismi esistono, i tecnicismi sono spiegati nel mondo della finanza in maniera molto chiara. Io vedo purtroppo che la nostra categoria molte volte mette il tecnicismo di fronte all'azienda, nel senso, guarda quali sono gli approcci metodologici, si dimentica che dietro c'è un'azienda che può avere diverse sfaccettature. Allora, quelle che sono interpretazioni che noi possiamo trovare nei manuali, penso al Guatri, penso ai manuali che normalmente utilizziamo, sono in realtà poi aspetti che devono essere codificati, sono impostazioni molto teoriche, molto alte, che però quando poi vengono applicate al caso specifico dobbiamo ricordarci che potrebbero avere diverse sfaccettature. Faccio questa premessa perché il metodo patrimoniale, per quanto da molti sia ritenuto abbastanza banale, in realtà è uno di quelli che si presta a questo tipo di analisi, come anche altri modelli, ma in particolare questo che viene concepito come particolarmente semplice, in realtà anche esso stesso delle sfaccettature. Quando si parla di metodo patrimoniale la domanda è capire se si tratta di un vero metodo valutativo o se si tratta di uno strumento che porta a una successiva valutazione. Noi sappiamo che ormai nella moda delle valutazioni d'azienda si sta andando sempre più verso metodi basati sui flussi, metodi più sofisticati, che in alcuni casi, penso al metodo misto, riguardano anche una valutazione di tipo patrimoniale. In realtà su questo tema c'è una spaccatura, quindi la dottrina è in qualche modo divisa nel riconoscere il metodo patrimoniale come un metodo stand alone, quindi come un metodo che da solo può portare a una valutazione. Quello su cui comunque tutta la dottrina è d'accordo è semplicemente il fatto che il valore a cui si giunge con il metodo patrimoniale è comunque un valore che è importante prendere a riferimento, che è importante considerare anche se poi la valutazione che verrà fatta non verrà condotta con il metodo patrimoniale. Diciamo che in certo senso può essere un buon punto di partenza perché essendo concreto, andando a vedere cosa stiamo effettivamente trasferendo, ricolleghiamo una specettatura che molte volte magari su un'attualizzazione di un flusso potrebbe portarci lontano da quelle che sono le reali consistenze aziendali. Ovviamente questa metodologia ha tutta una serie di grossissime limitazioni. Limitazione prima di tutto è il fatto che è una fotografia, è una fotografia basata su dati del passato ma attuali e questo ovviamente crea un po' i limiti a questa valutazione perché noi ovviamente come prospettiva dovremmo andare verso una prospettiva di insieme di beni, attività e passività volte alla creazione del reddito, quindi noi non dobbiamo concepire l'impresa come un coacervo di beni scollegati tra di loro. Il rischio del metodo patrimoniale, soprattutto con il metodo patrimoniale semplice, è un po' quello di togliere l'anima a un sistema che invece è un sistema organizzato, un sistema che in qualche modo grazie al fatto che sia organizzato, grazie al fatto che sia formato, è in grado di produrre un valore, un valore nel tempo e quindi ovviamente si discosta da la valutazione semplicemente fotografica del valore degli elementi che sono da considerare. Per quanto riguarda ovviamente il valore che deve essere in qualche modo preso a riferimento e che porta a una valutazione del metodo patrimoniale semplice, aspettate che sto provando a cambiare il slide, non passa più, è quello che molte volte viene concepito il metodo patrimoniale come uno strumento per l'individuazione di un capitale minimo che si avvicina a quello di liquidazione. In realtà chi di voi si occupa di liquidazione sa che questo non è vero, perché quando noi andiamo a fare una valutazione in termini di liquidazione noi non consideriamo solo la fotografia dell'attivo che serve a coprire il passivo, ma dobbiamo andare, secondo l'IC5, a considerare tutta una serie di oneri, in qualche modo figurativi e non, che rientrano nei costi della procedura, rientrano ad esempio nello smobilizzo di quello che è il capitale umano, rientra ad esempio in quelli che sono i cali fisiologici che avrà la reddittività e quindi le perdite probabilmente nell'ultimo periodo di attività fino alla messa in liquidazione. Quindi anche su questo punto è importante non confondersi e non avere in qualche modo un approccio che possa portare a una differenziazione in questo senso. Per quanto invece riguarda i casi di utilizzo, beh, ci sono delle specifiche fattispecie. Noi ovviamente prima di introdurre una valutazione, comprare una valutazione dopo aver studiato il caso specifico, è importante per noi andare a capire quale può essere il miglior approccio valutativo che ci porta a una valorizzazione del contesto aziendale. Allora, in questa slide vi ho riportato quelle che sono alcune casistiche, in particolare il metodo patrimoniale può essere utilizzato quando si ha a che fare con società non di tipo operativo, pensiamo a delle holding pure. Quindi se noi abbiamo una valorizzazione delle varie componenti, come la somma delle parti, a quel punto potrebbe essere utilizzata questa metodologia per una quantificazione. Dall'altra parte qualcuno di voi avrà l'esperienza, soprattutto nel passato, di quello che erano le società, possiamo dire, a grande intensità di capitale. Grande intensità di capitale penso ad esempio alle società immobiliari, dove c'erano immobiliari, ci sono immobiliari che hanno come flussi quella che è la gestione del proprio, possiamo dire, valore immobiliare, e di conseguenza per questo tipo di società la predominanza dell'aspetto patrimoniale è tale che questo metodo ben si sposa con le esigenze del caso. Ancora viene riportato molto spesso il fatto quando vengono effettuate delle operazioni all'interno dello stesso soggetto economico e quindi non c'è necessità di una, possiamo dire, identificazione di un maggior valore frutto dell'organizzazione di questi fattori. Per quanto riguarda l'approccio di valutazione, ecco, qui mi sento di fare una specifica che però è molto importante. L'approccio di valutazione deve essere un approccio molto serio. Quello che purtroppo mi capita sovente di vedere è che quando si va in una valutazione patrimoniale o misto reddituale patrimoniale si prende un po' per buono quelli che sono i valori che emergono dal bilancio, quindi non c'è una vera e propria attività di verifica di quelle che sono le consistenze. Questa è però una limitazione molto importante perché sta nella valutazione, soprattutto utilizzando questo metodo, dell'individuazione di quelli che sono in maniera, possiamo dire, atomizzata, le componenti attive che rientrano in quello che è il perimetro di misurazione. Dall'altro lato dobbiamo anche ricordarci che ci sono delle distinzioni, delle differenze tra i criteri valutativi che vengono utilizzati quando si predispone il bilancio e quindi quando si mantengono dei valori contabili al di sotto di quello che è il valore recuperabile così che non si ricada nella fattispecie dell'imperment testa o quando invece si deve effettuare una valutazione orientata a individuare il valore corrente. Allora questi aspetti insieme devono essere ampiamente considerati perché molto spesso la tentazione quando si ha a che fare con una dinamica patrimoniale che sia patrimoniale puro o che sia legata anche all'aspetto del reddito è di sottovalutare queste due circostanze e quindi di prendere a volte per buoni dei valori perché tanto si sa che quel bilancio in qualche misura ha seguito un certo iter è affidabile e si ritiene che possa essere quello un buon punto di partenza. Ecco vedremo insieme che ci sono alcuni aspetti che invece questo non lo rendono una buona soluzione e una seria e professionale soluzione da avere. Dopodiché c'è il tema degli intangibili. C'è il tema degli intangibili che in qualche modo molti di noi hanno imparato a conoscere con la rivalutazione, con la crisi da Covid perché a quel punto si sono cimentati in valutazioni funamboliche dei marchi e quindi di intangibili specifici. Ecco questo è l'elemento che in qualche modo differenzia il patrimoniale semplice da quello che è il patrimoniale complesso che è un elemento in più, uno sviluppo di quello che è l'impostazione che ora nel merito vedremo. Non mi soffermo più di tanto sul tema della revisione e della correzione dei dati contabili perché poi il nostro collega ce l'approfondirà meglio ma quello che è importante è comunque capire e definire qual è la base dati. La base di partenza sicuramente sarà il bilancio, sarà la documentazione contabile se la documentazione contabile è stato oggetto di revisione abbiamo elementi in più che ci permettono di sollevarci da un onere che in realtà noi avremmo al contrario in maniera proprio diretta che è quella poi di andare a verificare effettivamente quali sono le consistenze quindi se c'è una procedura di revisione vedremo ovviamente si dovrà fare riferimento a quanto fatto anche dei revisori della società quando hanno attestato le poste di bilancio. Se invece come purtroppo e come spesso accade non vi è un revisore e beh noi non possiamo prendere per buono il bilancio è necessario andare a fare delle verifiche interne. Certo è che aiuta quando uno è anche il commercialista perché ovviamente sa che cosa c'è finito dentro in determinate voci e come certe voci sono state analizzate però ovviamente non sempre si può essere così di parte in questo tipo di valutazioni. Quello che deve essere quindi tenuto presente è che devono essere in qualche modo individuate tutte le attività e le passività bisogna tenere presente nelle posizioni ad esempio dei crediti così come negli accantonamenti che ci sia quello che in revisione si chiama l'asserzione della completezza cioè essere sicuri che effettivamente nelle fasi possiamo dire valutative in quegli elementi soggettivi di predisposizione del bilancio e beh non ci sia un'incidenza particolare di quelle poste soggettive valutazioni soggettive che rendono il bilancio uno strumento di scopo. Nel momento in cui noi ci dovessimo in qualche modo riconoscere o dovessimo individuare quelle che sono delle scelte che possono essere fatte con specifiche intenti fiscali quindi piegando quelle che sono le regole contabili agli aspetti fiscali o a circostanze amministrative e beh dobbiamo sapere che quell'approccio non è quello preferibile e quello corretto per effettuare le valutazioni. Allora tutta una serie di logiche e me sono d'accordo che poi uno si scontra con i casi operativi e i casi pratici e questo rimette in discussione tutto perché ovviamente non è che uno può essere onnisciente o fare tutto questo tipo di analisi. Tenete però presente che quello che è l'impostazione sarebbe quella di evitare che il bilancio e i dati che vengono presentati vengano mantenuti in una logica di sviluppo di una politica di bilancio. Per quanto riguarda gli elementi e quindi gli aspetti cruciali che in una perizia diventano particolarmente importanti sono tutte quelle verifiche che devono essere fatte per evitare che sia stata condotta una sovrastima nelle attività o che sia stata condotta una sottostima di quelle che sono le passività. Quindi asserzione, soprattutto esistenza e valutazione nelle attività mi sento di dire completezza nelle passività. Quindi verificare che effettivamente non ci possano essere altri elementi che escono fuori dal tipo di analisi che stiamo andando a fare. Dopodiché come si agisce? Si agisce scollandosi da quelle che sono le logiche rappresentative del bilancio in quanto in questa fase noi dobbiamo andare a dare una rappresentazione del cosiddetto prezzo di mercato quindi dei valori correnti che vengono applicati alle attività e dei valori di estinzione che vengono applicati alle passività. Ovviamente si tratta di una procedura molto complicata perché molto spesso abbiamo a che fare con imprese che hanno immobilizzazioni tecniche che hanno certi gradi di obsolescenza che hanno magari non più un mercato attivo magari ci sono tutta una serie di circostanze che rende difficile questo tipo di valutazione. Allora si può ricorrere a valori di sostituzione valori di riproduzione e tutta una serie di approcci valutativi che poi nel momento in cui sono sviluppati possono a occhi di terzi essere ampiamente condivisibili. Quindi se noi non siamo in grado di in qualche modo individuare qual è il corretto prezzo dovremmo dire qual è il valore di un'immobilizzazione che ha le stesse caratteristiche e poi applicare un coefficiente in termini di obsolescenza in termini di anche possiamo dire logorio fisico dell'immobilizzazione rispetto a quello che potrebbe essere un prezzo basato sul nuovo a condizioni di mercato. Dopodiché cosa si fa? Si prendono in rassegna ora le vedremo in sequenza così da dare anche un taglio operativo le principali attività le principali passività viene fatta questa rideterminazione e poi secondo il metodo del patrimonio semplice semplicemente plus e minus valenze concorreranno alla rettifica del patrimonio che in questo caso sarà patrimonio rettificato rispetto al patrimonio di partenza. entrando nel merito delle principali attività beh ci sono delle caratteristiche queste devono essere studiate per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali come vi ho detto bisognerebbe trovare un valore corrente oppure il valore di sostituzione considerando un coefficiente di abbattimento sull'obsolescenza economica per quanto riguarda ad esempio il leasing ricordatevi che noi abbiamo una rappresentazione che è una rappresentazione patrimoniale quindi prevalenza della forma sulla sostanza. il primo step nei contratti di leasing è quella di andare invece a dare una rappresentazione finanziaria e quindi iscrizione dell'attivo e del passivo così come siamo abituati a fare per la nota integrativa. Ovviamente però qual è il punto? Che non basta quella scomposizione bisogna ragionare sul valore corrente dell'asset che in determinate condizioni dovrebbe essere iscritto quindi non è detto che basti questo spacchettamento è possibile che poi ci siano altre valutazioni che devono essere condotte su quel tipo di valore. Una delle poste su cui io in qualche modo ho sempre le criticità maggiori a livello operativo sono le immobilizzazioni finanziarie perché quando noi abbiamo a che fare con una società che ha delle partecipazioni il lavoro si duplica si moltiplica perché a cascata noi dovremmo andare a vedere che cosa c'è dentro quanto vale l'altra e via dicendo quindi molte volte degli incarichi che arrivano che sembrano facilissimi poi vedi che hanno una partecipazione e inizi a dire aia qui speriamo di non andarsi a far male ecco state attenti quello che la dottrina in questo è abbastanza chiara è che la valutazione di queste deve essere fatta secondo valore d'uso il valore d'uso in cosa consiste? consiste nella attualizzazione dei valori futuri come si calcola il valore d'uso di una partecipazione? e beh non si calcola solo come attualizzazione ideale dei flussi finanziari che quella partecipazione potrà produrci in termini anche solo di dividendi premesso che non tutte me danno dividendi ma in realtà se sono detenute per finalità strategiche bisognerebbe farci uno studio dietro cioè capire quali sono le esternalità positive che quella partecipazione produce nella società che stiamo valutando quindi per la valutazione del valore d'uso diciamo che volendo entrare poi nel merito dello specifico dovremmo fare un corso apposito ma nella sostanza bisognerebbe fare una determinata diciamo che tutti i punti che sto vedendo dovremmo fare un corso apposito però in questo tema è particolarmente delicato perché ricordatevi che purtroppo se ci dovesse essere un'altra partecipazione noi dobbiamo a quel punto riproporre quella valutazione se vogliamo limitare il rischio perché in alcune cose il valore d'uso diventa tecnicamente difficile da determinare su una partecipazione allora noi cosa possiamo fare possiamo calcolare il valore della società che sta sotto e quindi proporzionalmente impartire e proiettare nella nostra il valore economico di quella realtà per quanto riguarda il magazzino beh il magazzino anche in questo caso deve essere valutato con dei criteri che quantifichino le rimanenze secondo quelle che sono gli scambi più vicini più prossimi in modo da avere il valore più attuale possibile anche nelle rimanenze sappiate che bisogna distinguere tra quella che è la componente delle materie prime che avrà un valore di mercato che in qualche modo è ottenibile con quello che sono invece i semilavorati prodotti finiti dove rientriamo in quella logica di costruzione che già quando determiniamo bene i magazzini diventa impegnativo e che però in qualche misura dobbiamo far riferimento a quelli che sono dati extra contabili prodotti in media del manager per la determinazione del costo unitario per quanto riguarda ancora i crediti commerciali crediti finanziari e debiti finanziari siamo stati in qualche modo se la realtà è un minimo strutturato aiutati dal concetto di costo ammortizzato che quindi porta in pancia al concetto di attualizzazione che è già un aspetto che nelle logiche valutative è un aspetto importante per quanto riguarda invece i crediti commerciali c'è il tema del presumibile valore di realizzo quindi verificare se c'è corrispondenza tra quanto in qualche modo già svalutato e coincidenza vuole le soglie di deducibilità dell'articolo 106 del TUIR se ci si accorge che ci potrebbero essere incongruenze su questo valore e beh qui sta quel tema della completezza e valutazione dei rischi che a me deve necessariamente essere posto in essere dopodiché c'è il tema più ruvido riguardante quello che è il metodo patrimoniale che è il tema famoso dell'iscrizione della fiscalità differita allora sul tema della fiscalità differita beh ci sono un il dibattito è molto ampio il dibattito è molto ecceso perché c'è chi di noi applica una liquota piena fiscale quindi calcola le plusvalenze che generalmente sono più delle minusvalenze perché ahimè ricordatevi che bisognerebbe poi anche applicare le minusvalenze se riteniamo che una posta è sovrastimata ma in molti casi se guardiamo in percentuale le perizie io vedo sempre delle plusvalenze e quindi uno dice il bilancio ha scritto quello è Ubi Maier e non si va in qualche modo a fare chissà quale rettifica in realtà dovrebbero esserci plusvalenze e minusvalenze queste plusvalenze e minusvalenze secondo quella che è l'impostazione condivisa devono essere in qualche modo compensate tra di loro quindi cosa vuol dire non devo calcolare la fiscalità differita solo sulle plusvalenze dimenticando le minusvalenze ma è radicato l'approccio di fare una compensazione tra queste parti il tema che però è più pericoloso è dire va bene ma che aliquota applico ecco sappiate che nel mondo della valutazione d'azienda ci sono tantissime strade c'è chi affronta il tema con un approccio atomistico per singola attività perché per singola attività perché state attenti che c'è il tema legato al fatto che bisogna incrociare l'aliquota fiscale bisogna incrociare la probabilità che l'aspetto fiscale si in qualche modo manifesti e bisogna anche incrociare il fattore temporale cioè entro quanto ci sarà la plusvalenza allora in molti contesti l'approccio più semplice è stato quello di inserire l'aliquota piena fiscale su tutte le plusvalenze questo è un approccio che viene seguito a livello professionale molto spesso si ricorre ad aliquote ridotte aliquote ridotte perché si considera che alcune delle poste avranno un più lento realizzo sotto il profilo fiscale quindi la plusvalenza non arriverà oggi ma arriverà un domani dopo un processo di ammortamento dopo un processo in qualche modo di elaborazione quindi porta a ottenere un'aliquota differente ci possono essere dei casi nei quali alcuni professionisti decidono di fare uno studio per singola plusvalenza e ad esempio in quelle a veloce possiamo dire rigiro come possono essere le rimanenze si applica l'aliquota piena ad esempio negli ammortamenti dove invece l'ammortamento segue un iter e eventualmente la plusvalenza finale arriverà poi successivamente in quel caso viene applicata un'aliquota più bassa o più bassa anche perché magari si sa che in un determinato paese ci sono delle condizioni tipo le rivalutazioni che permettono un riconoscimento fiscale a valori in qualche modo più morbidi e leggeri dell'aliquota piena allora voi sappiate che a livello di analisti del mercato finanziario l'aliquota è presa piena se doveste voi scollegarvi da questo ovviamente è importante che ci sia una costruzione teorica di come siete arrivati a quella aliquota qualora ci fossero plusvalenze e minusvalenze l'aliquota deve essere collegata sul differenziale per quanto riguarda l'ultimo aspetto è un aspetto a completamento di quello che è il modello patrimoniale semplice in particolare se noi ci pensiamo effettivamente come è stata la mia apertura noi valutiamo un'azienda come un qualcosa di diverso di una somma di beni questo è anche molto chiaro quando si cerca di liquidare le società o vendere delle società o in qualche modo cedere dei rami d'azienda in questo ambito diciamo che il modello patrimoniale può essere arricchito di un ulteriore componente cioè può essere inserito a quello che è il tema degli intangibles il tema degli intangibles è particolarmente delicato c'è un grande dibattito anche qui non c'è un approccio univoco nelle valutazioni personalmente nel metodo patrimoniale complesso si è soliti valorizzare gli intangibles specifici quindi fare riferimento all'aggiunta di quegli intangibles intangibles che non sono stati precedentemente contabilizzati ma che hanno oggetto costo quindi che sono stati in qualche modo sviluppati con degli investimenti che hanno in qualche modo possono essere fonte di utilità futura per l'impresa e che sono fonte di trasferibilità quello che è importante tenere presente è questo che questi intangibles in particolare quelli specifici possono essere intangibles che per varie condizioni come anche quelle dettate dai principi contabili non sono stati contabilizzati perché non ne rientravano in quelle condizioni oppure per scelte della società a suo tempo non sono stati contabilizzati allora questo aspetto è molto delicato perché anche sui singoli intangibles diciamo apriamo una finestra che non è più una finestra guardando al passato perché chi di voi si occupa di valutazione intangible penso ad esempio i marchi di ricerca e sviluppo sa che queste determinazioni devono comunque essere fatte in prospettiva ai benefici che gli asset andranno a produrre per la realtà aziendale allora ci sono tre approcci per la valutazione degli intangible che vanno quindi a coronare la rappresentazione patrimoniale complessa c'è un approccio che è il cost method questa si ha quando noi quando la società che stiamo valutando ha fatto degli investimenti per i quali però non abbiamo ancora contezza e non riusciamo a determinare in maniera possiamo dire attendibile quelli che saranno i benefici la ricaduta positiva creano sull'azienda penso a costi di ricerca e sviluppo in particolare a quel punto ricerca che quindi non risulta capitalizzata e non presente in bilancio che però noi sappiamo che andrà in qualche modo a creare del valore futuro allora in questo caso se noi non abbiamo elementi per la determinazione del valore futuro si prende quanto è stato speso si ragiona su un'attualizzazione di quello una capitalizzazione di quello che è stato speso dopodiché ci sono gli altri due approcci che sono anche più trendy e comunemente utilizzati che sono l'income method e poi il market method income method beh nei marchi è quello del calcolo differenziale quindi si va a chiedere ma questo marchio se io non ce l'avessi o io grazie a questo marchio che tipo di maggiori valori riesco ad avere allora se un marchio o un intangible produce maggiori ricavi o minori costi o un rapporto tra i due che ovviamente si spera sia positivo allora in questo caso è possibile effettuare un'attualizzazione di quelli che sono i benefici in base a un arco temporale che renda prevedibile l'utilizzo e l'esaurimento dell'utilizzo di quello specifico intangible sia come somma che come differenza anche cosa mi verrebbe tolto perché in alcuni casi è più facile dire ma se io non avessi il marchio come inciderebbe sui costi e sui ricavi allora questo doppio approccio fa sì che vi sia una quantificazione in termini income sull'approccio che è quello forse più utilizzato quello che vedo di più sui marchi è sicuramente quello delle royalties ecco il tema delle royalties è a cavallo tra un approccio possiamo dire più income che un approccio market viene considerato a cavallo perché l'alliquota con cui diciamo quanto qualcuno pagherebbe per utilizzare quel marchio inventandoci royalties di 1 2 5 ho visto anche 16% del fatturato prodotto a parte bisogna capire se poi è credibile perché molti marchi non li utilizzerebbero non li stanno utilizzando neanche le aziende che ce li hanno però quello è un approccio che viene dato dal mercato vengono dati da studi appositi che fanno dei report e ti dicono in un determinato contesto un marchio che royalties potrebbe chiedere ecco questo approccio è un approccio che in quel caso volge a determinare il valore dell'intangible che verrà aggiunto al novero considerando quello che è l'attualizzazione dei proventi da royalties ideali che noi saremmo in grado di ottenere ovviamente questo aspetto se combinato col metodo patrimoniale ci spinge un po' più in là di quella che è una rappresentazione statica per quanto riguarda e poi passo la parola alla collega intangible generici gli intangible generici sono in molti casi la vera anima di molte aziende perché molti aspetti che sono incapitalizzabili sono in realtà un patrimonio per l'azienda penso a in qualche modo il capitale umano o la formazione sul capitale umano e quindi una serie di aspetti di questo tipo beh io suggerisco che per una loro determinazione di non andare verso questo modello che rende in qualche modo molto fragile la valutazione ma spingersi su ovviamente un metodo misto che permetta quindi di avere una determinazione sulla maggior capacità di sovraperformare dell'impresa e poi a cascata dopo aver in qualche modo colmato gli intangible specifici il differenziale darlo come valutazione reputo che quello sia l'approccio non vi nego che in dottrina c'è anche chi sostiene che appunto in questo metodo si possa andare a individuare anche componenti di intangible generici che io però considero possibile la determinazione ma molto scivolosa quindi non consiglio a nessuno grazie mille grazie molto per il tuo intervento utilissimo che in un certo senso dà anche un incipit alla collega che segue nella relazione la dottoressa Vaudano che ci parlerà del metodo misto è uno dei metodi più utilizzati nelle valutazioni d'azienda contempera gli aspetti di valutazione di natura patrimoniale con quelli reddituali un metodo che è anche conosciuto con l'acronimo WEC è un metodo molto diffuso non soltanto a livello italiano ma direi anche gli altri paesi della comunità europea ecco su questi aspetti mi comincio tratterà la collega Elena Vaudano ci parlerà di questo metodo dove non necessariamente a volte è capitato di vedere delle valutazioni che spingono necessariamente la determinazione di un avviamento guardate che l'esito di questa stima può anche essere la rilevazione di un disavviamento e questo è un aspetto molto importante soprattutto poi quando ci si trova a fare le valutazioni di aziende in un contesto di crisi anzi sarebbe utile Elena che tu ci dessi anche una misura sulla applicabilità di questo metodo di valutazione anche in contesti di crisi considerando insomma di crisi nemastiche quotidianamente grazie forse il collega Volevo semplicemente condividere una riflessione che stavo facendo mentre Emanuele trattava il tema degli intangibili una riflessione che secondo me ci restituisce un po' la misura di quanto sia complessa la valutazione degli intangibili e di come in alcuni casi la normativa abbia deciso magari in maniera un po' troppo determinata e forse magari un po' troppo semplicistica ma come abbia deciso di trattare il tema degli intangibili e mi riferisco in modo particolare a tutta quella normativa che riguarda soprattutto il settore bancario il settore assicurativo relativa al calcolo dei requisiti di solvibilità in modo particolare relativa al calcolo dei fondi propri a copertura ovviamente del profilo di rischio ecco in questo caso la considerazione che facevo è che per definizione questa normativa assume che l'avviamento abbia valore uguale a zero e assume che altrettanto abbiano valore uguale a zero gli altri intangibili a meno che non si dimostri difficilmente secondo me che per quegli intangibili esiste un mercato liquido e un mercato o un mercato attivo ecco è una considerazione una riflessione che facevo mentre si trattava del tema degli intangibili perché effettivamente sono estremamente complessi e in questo caso ecco la normativa ha dato come dire ha suggerito una soluzione così un po' un po' tranciante ma che probabilmente dà la dimensione di quanto sia difficile quindi in quel caso nel calcolo dei requisiti di solvibilità non si è voluto lasciare spazio insomma a dubbi o a perplessità buongiorno a tutti grazie per l'introduzione per l'opportunità è davvero difficile seguire nell'esposizione il professor Gromis di Trana quindi spero nella vostra clemenza allora mi è stato affidato il tema del metodo misto reddituale con stima autonoma dell'avviamento il collega Federico mi chiede che tipo di applicazione può avere questo metodo in ambito di ristrutturazione aziendali in realtà nella mia esperienza ha una funzione importante tra l'altro il corso questo corso si basa proprio sulla stima del valore dell'azienda in ambito di liquidazione quindi mi viene mi cade proprio a fagiolo la correlazione col mondo della crisi d'impresa perché voi sapete che ormai da circa tre anni è in vigore uno strumento che si chiama la composizione negoziata della crisi che sostanzialmente dovrebbe essere l'anticamera per la gestione di situazioni di crisi reversibile e che molto spesso diventa anche poi il diciamo il viatico per le procedure maggiori laddove non va da buon fine e che prevede a carico prevede l'individuazione di una figura in qualità di mediatore che è la figura dell'esperto della composizione negoziata credo che alcuni di voi magari anche molti abbiano ricoperto comunque abbiano avuto occasione di imbattersi in questo ruolo e che abbiano sicuramente avuto a che fare con imprese in crisi ecco nell'ambito della composizione negoziata lo strumento della valutazione reddituale mista reddituale con stimato dell'avviamento è uno strumento valutativo estremamente utile perché la norma vi semplifico molto il contesto prevede che l'esperto in qualsiasi momento dalla nomina fino alla conclusione dell'incarico se lo ritiene opportuno nella sua funzione di moderatore delle trattative quindi anche di soggetto che aiuta i creditori a capire quanto la proposta fatta dall'impresa in crisi sia la migliore alternativa possibile debba valutare lo scenario liquidatorio lo scenario liquidatorio deve tenere conto dell'unica esigenza che poi interessa veramente ai creditori cioè quali sono i flussi che concretamente potranno ritrarre laddove l'operazione di ristrutturazione non vada a buon fine e invece si risolva con un'ipotesi di default e quindi con uno scenario liquidatorio in questo caso oltre alla realizzazione atomistica dei singoli beni che diciamo è lo scenario più penalizzante occorre anche tenere in conto la possibilità di cessione in esercizio dell'azienda che probabilmente trattandosi di un'impresa in crisi è realistico che abbia una situazione patrimoniale di partenza negativa quindi esprima un valore patrimoniale netto stando alla stima appunto meramente patrimoniale esprima un valore negativo perché potremmo trovarci in una situazione in cui fatte anche tutte le valutazioni a valori di mercato sugli asset e quindi portate in conto eventuali plus valori latenti il valore aziendale potrebbe essere negativo e allora è importante che si tenga conto anche dei flussi reddituali prospettici che devono essere sommati secondo il processo che andremo ad analizzare tra poco per poter esprimere un valore che sia diciamo quanto più possibile coerente con la prevedibile generazione di cassa dell'azienda che poi è quello che interessa i creditori che devono essere fondamentalmente pagati devono vedere adempiute le obbligazioni da parte dell'impresa mentre altri metodi come ad esempio quello dei comparables in ambito restructuring come di cui stiamo parlando sono diciamo poco fruibili perché non danno lo stesso tipo di visione e di analiticità relativamente ai flussi reddituali prospettici quindi sì assolutamente io credo che sia uno strumento che debba essere preso in considerazione soprattutto per chi si trova a dover fare l'esperto l'advisor in ambito di composizione negoziata o intervenga o abbia comunque un ruolo all'interno di un'operazione di ristrutturazione del debito molto bene allora ascoltiamo ascoltiamo con attenzione il metodo che illustri visto che è molto versatile sia in ipotesi di contesti in bonus che in crisi grazie tra l'altro vi farò un esempio ed è proprio un esempio storico una valutazione che è stata fatta nell'ambito di una ristrutturazione aziendale allora che cos'è il metodo misto con valutazione autonoma dell'avviamento è un metodo misto patrimoniale e reddituale come diceva Federico è una sommatoria di due elementi cioè è il metodo che dovrebbe portare in conto valutazioni sugli asset tangibili e intangibili che il metodo reddituale normalmente non valorizza adeguatamente e d'altro canto porta in conto anche le prospettive di futura capacità di generazione del reddito che invece non vengono in qualche modo analizzate dal metodo patrimoniale perché come è stato ampiamente spiegato nel primo intervento il metodo patrimoniale è un metodo storico a valori attuali ma è pur sempre un metodo storico che quindi sconta una vision calata all'Iketnuk senza una specifica vision sui redditi prospettici poi peraltro faccio un inciso è sempre opportuno in ottica valutativa che accanto come è stato detto nel primo incontro accanto a un metodo principale venga individuato un metodo il più acconcio metodo di controllo per sostanziare in maniera ancora più solida l'esito della della valutazione quindi fondamentalmente il metodo misto patrimoniale reddituale è un'addizione da una parte abbiamo il valore del patrimonio netto rettificato al valore corrente che quindi costituisce la componente patrimoniale e poi dall'altra il secondo addendo è costituito dal valore dell'avviamento che è la componente reddituale allora fermandoci qui a questa semplice addizione la prima considerazione che dobbiamo fare è che per porre a terra questo tipo di metodo dobbiamo disporre di tanti dati molti più dati di quelli di cui dobbiamo disporre ad esempio nell'applicazione del metodo patrimoniale perché ci serve una vision reddituale e quindi detta in altri termini ci serve un piano ci serve un piano che stimi la capacità dell'impresa di generare redditi in un periodo che sia congruo con le prospettive di sviluppo del business quindi dipende dal tipo di attività e qual è la vita prospettica dell'impresa il che quindi costituisce un lato negativo di questo tipo di metodo valutativo perché come diceva giustamente il professore non bisogna rischiare di farsi trascinare dalla teoria e poi non riuscire ad applicarla nel senso che se io non dispongo di una pianificazione e non sono in grado di acquisire dati sufficienti per una stima prospettica del reddito allora questo metodo può portare a risultati criticabili e contestabili d'altronde se ci ricordiamo l'intervento del professor Bava del primo incontro qualsiasi metodo valutativo la bontà di una valutazione passa per la razionalità del processo utilizzato quindi la valutazione poi l'azienda vale quello che il mercato dice la valutazione per definizione è sempre sbagliata nel senso che se viene fatta in ottica se viene resa come fernese opinion su un prezzo già stabilito ok ma se viene fatta nell'ottica di individuare un valore da collocare sul mercato sarà quasi sempre sbagliata perché poi le dinamiche di mercato sono diverse quello che resta buono resta valido è il processo metodologico e razionale sottostante ecco allora attenzione a cadere su questo metodo laddove non si disponga di una base dati disponibile poi l'altra considerazione che bisogna fare è che questo metodo tende a penalizzare evidentemente il valore di quelle imprese che presentano una bassa redditività perché la componente di redditività evidentemente è più bassa rispetto ad altri metodi ad esempio come quello dei multipli o delle transazioni comparabili ecco entrando nel merito abbiamo detto strima autonoma quindi scusate torno un attimo indietro per quanto riguarda il valore del patrimonio netto rettificato non posso fare altro che richiamare tutte le considerazioni svolte dal professor Gromis di Trama con la particolarità che vedremo tutte le rettifiche che vengono fatte in relazione alla situazione di partenza devono essere poi correttamente trattate anche nel reddito prospettico quindi deve esserci un'omogeneità di trattamento sia dal punto di vista patrimoniale statico lasciatemi dire alla data di riferimento della situazione patrimoniale tra l'altro data di riferimento che se torniamo all'ambito restructuring giusto per collegarmi alla domanda del collega Federico in ambito restructuring non dovrebbe essere più vecchia di 120 giorni quindi deve essere estremamente puntuale e che se invece parliamo di una liquidazione di quota in ambito di liquidazione societaria quindi va fatta nel momento in cui va riferita al momento in cui si è verificato l'evento di exit del socio quindi la data deve essere quella puntuale di exit del socio potrebbe essere il 24 maggio 2024 con tutte le complessità del caso di trovare una situazione aggiornata il 24 maggio 2024 ovviamente approssimiamo tutto quello che c'è da approssimare però è da tenere ben presente perché la valutazione va fatta a quella data la questione dell'avviamento allora che cos'è il goodwill avviamento chiamatelo un po' come volete è il surplus fondamentalmente è la capacità di generare surplus dai redditi prospettici e vi ho fatto vi ho riportato la formula fondamentalmente ci sono tre modalità di stima autonoma dell'avviamento diciamo che la più comune quella più utilizzata è quella di attualizzazione del reddito differenziale medio cioè occorre determinare la capacità di creare valore dell'azienda partendo dal reddito prospettico che deve essere attualizzato applicando un tasso di attualizzazione acconcio al caso di specie tenuto conto delle specificità del settore del paese e ovviamente eventuali ulteriori componenti specifiche del caso di specie che al netto ovviamente del costo del capitale proprio per quanto riguarda i tassi ecco la costruzione dei tassi è un tema estremamente delicato nel senso che incidono in misura ugualmente importante nella determinazione del valore però sono molto più alleatori in qualche modo nel senso che le fonti per la costruzione dei tassi sono molte diciamo che la tecnica chi è un po' addentro ai temi di valutazione sa che una delle fonti più autorevoli è la banca dati di Damodaran che è un professore della New York University credo che fornisce aggiorna periodicamente i dati per quanto riguarda tutti i principali fattori di rischio quindi fornisce una banca dati affidabile è importante che il tema della costruzione del tasso è particolarmente importante perché un tasso eccessivamente eccessivamente prudenziale potrebbe incidere determinare un valore che poi però dal punto di vista metodologico è sbagliato perché non abbiamo portato adeguatamente in conto il rischio connesso alla realizzazione del reddito prospettico e questo vale tanto più vi siano condizioni di incertezza rispetto alle prospettive future della società quindi scusa sono una considerazione mi chiami una osservazione spesso si ritiene che facendo le valutazioni d'azienda ciò che deve orientare il valutatore è la prudenza e questo va bene ma la prudenza non vuol dire necessariamente andare verso un valore al ribasso del compendio aziendale da valutare cioè dipende sempre qual è l'incarico che uno ha ricevuto e quali sono le finalità della stima se devo fare una valutazione d'azienda per fare un conferimento in natura so che la contropartita di quel conferimento è capitale sociale o patrimonio netto e quindi una valutazione prudente al basso è un approccio un'impostazione corretta attenzione che però se io ricevo un incarico per fare una valutazione d'azienda il cui scopo di questa perizia è l'affrancamento delle quote il socio tutt'altro che disinteressato cioè l'amministrazione finanziaria sinceramente di un approccio del perito che vada a ribasso non gli sta bene perché ovviamente non prende la contropartita che è l'imposta sostitutiva con tutti gli effetti che poi si determina anche in tema di un'eventuale contestazione dei valori peritali e quindi in caso di vendita l'emersione di una plusvalenza che verrebbe poi tassata in modo ordinario quindi scusate ho rubato un minuto ma giusto per dire che attenzione la finalità dell'incarico che dovrebbe essere il cappello iniziale della perizia che dà esattamente il perimetro dell'incarico ricevuto dal perito è importantissima sì sono d'accordo molto spesso in ambito di ristrutturazione capita che quando viene chiesto di produrre un piano la società ha già a disposizione magari una società che si è rivolta al mercato dei capitali ha già predisposto una valutazione in ottica di crowdfunding piuttosto che di round investimenti normalmente queste sono valutazioni estremamente ottimistiche cioè danno una vision di quelle che sono le migliori prospettive di crescita del business proprio perché hanno l'obiettivo di rendere appetibile l'investimento sul mercato e la prima considerazione che si fa è questo questo tipo di valutazione in un ambito liquidatorio deve essere significativamente rivista poi magari si arriva agli stessi risultati però diciamo che la struttura dall'apparato metodologico è estremamente diverso non necessariamente uno è meglio dell'altro ad esempio in ambito di composizione negoziata anche in questo caso cioè andare a fare una valutazione vile dell'azienda diciamo abbattendo troppo i valori i flussi prospettici laddove non ce ne siano i presupposti evidentemente è sbagliato perché i creditori devono avere la visione corretta di quelle che sono le prospettive non una visione punitiva per essere diciamo artatamente forzati ad accettare un accordo laddove l'alternativa è più conveniente quindi da questo punto di vista il valutatore si assume anche le proprie responsabilità in ottica anche nei confronti dei creditori e molto spesso le differenze sono anche contenute tra in e out allora abbiamo detto che dobbiamo fare una stima del reddito prospettico il reddito prospettico in primo luogo è un risultato di conto economico quindi abbiamo un risultato un risultato reddituale dato da una stima economica prospettica questo dato deve essere pulito pulito di due temi uno è quello della normalizzazione ed uno diciamo un pochino più sofisticato è quella dell'integrazione la normalizzazione è abbastanza intuitivo che cos'è la normalizzazione serve a individuare un reddito un risultato quanto più possibile stabile significativo andando a eliminare tutte le componenti che hanno natura straordinaria ospuria nonché anche eventuali politiche di bilancio quindi bisogna strutturare un processo in cui andiamo a rettificare costi e ricavi che risultino parzialmente o completamente estranei alla gestione al contrario aggiungere ricavi e costi non espressi nell'ambito della gestione nel prospetto di conto economico eliminare oneri e proventi straordinari rideterminare conseguentemente le imposte dirette e ancora cosa sicuramente molto importante in questo momento storico neutralizzare l'effetto dell'inflazione all'esito possiamo altresì applicare un processo di integrazione cioè un processo questo processo è come dico a mio modo di vedere un pochino più sofisticato nella prassi valutativa in molti casi io non l'ho visto fare però se si fa e attiene proprio al tema degli intangibles che menzionava anche il collega Luca Malfatti cioè l'integrazione alla verifica dell'incidenza sulla capacità reddituale delle componenti intangibles e questo però deve essere correttamente correlato col metodo patrimoniale utilizzato per la stima del valore del capitale alla data della perizia quindi sostanzialmente si va a sommare si va a isolare la variazione di valore degli intangibili alla variazione del valore delle plusvalenze e delle minusvalenze latenti su immobilizzazioni crediti e debiti del periodo non mi soffermo ma faccio cenno solo per completezza espositiva l'ampiezza temporale dipende arriviamo subito all'esempio l'ampiezza temporale dipende da che cosa fa la vostra impresa e quali sono le sue prospettive future io vi ho riportato l'esempio di una società questa è una società che è andata in procedura e che operava su concessione quindi aveva una durata della concessione di solito le concessioni hanno durate decennali quindi aveva un arco temporale abbastanza lungo di operatività prospettica detto che in generale l'arco temporale qui mi confronteranno i colleghi maggiore è l'ambito temporale io parlo di proiezione di flussi maggiore l'arco temporale nella proiezione dei flussi in presenza in assenza di elementi specifici che ci portino ad allungare il periodo di riferimento maggiore l'area connessa alla valutazione perché ci può sempre essere un elemento di discontinuità che incide sulla valutazione quindi questa era un'impresa che operava su concessione che fondamentalmente aveva nel proprio attivo doveva cedere un ramo di azienda composto da contratti una serie di beni immateriali e poi gli attivi materiali che erano diciamo l'aspetto fondamentale l'elemento fondamentale del ramo c'erano la parte più importante preponderante del ramo il magazzino i rapporti di lavoro unitamente ovviamente a tutte le sue componenti ancillari e poi tutti i contratti funzionali all'esercizio del ramo di azienda allora qui che cosa è stato fatto in primo luogo si è fatto il patrimonio netto rettificato ok molto banalmente visto che l'attivo di maggior rilievo era l'attivo materiale è stata fatta una valutazione puntuale tramite una perizia redatta da un tecnico degli asset materiali alla data di riferimento e quindi si è visto che a fronte di un valore di iscrizione contabile di 3 milioni e 100 in realtà è un di cui dell'attivo comunque c'era un valore dei beni periziati di un milione con una misura praticamente emergeva una minusvalenza da perizia di circa un milione e quindi come vedete è stata fatta la rettifica le altre voci sulle altre voci le verifiche condotte non facevano emergere necessità di particolari rettifiche e alla fine sulla base di tale impostazione si preveniva ad un valore corrente del patrimonio netto del ramo negativo di circa un milione come vedete nella tabella questo è un caso devo dire che in ambito di istrutturazione aziendali non è così raro nel senso che può capitare appunto che facendo le valutazioni del caso emerga che i valori correnti sono inferiori ai valori netti contabili anche perché il perito immobiliare piuttosto che l'ingegnere che va a valutare i singoli asset in ambito di perizia di valutazione in ambito di ristrutturazione tende a utilizzare il cappello della prudenza cioè tende a individuare i valori che sono quelli diciamo più coerenti rispetto alla struttura al contesto di riferimento al contesto di riferimento quindi in questo caso si è andato poi a stimare l'avviamento allora visto che ci possono essere tre scenari dicevamo la durata possiamo fare un'attualizzazione limitata del reddito differenziato medio possiamo fare l'attualizzazione dei redditi differenziali puntuali quindi anno su anno per un certo numero di anni oppure possiamo fare una capitalizzazione illimitata del reddito differenziale medio in questo caso il ragionamento che è stato fatto giusto o sbagliato che sia è questo l'avviamento era costituito per diciamo in maniera del tutto preponderante dai contratti di servizio che giravano su una concessione come abbiamo detto questi contratti presentavano una scadenza definita peraltro in arco piano per cui in un primo in una prima approssimazione si è detto facciamo l'attualizzazione dei redditi attesi medio puntuali fino all'estensione della durata dei contratti dopodiché visto che sottostante c'era una concessione è stato deciso di effettuare la la valutazione in ottica illimitata proprio perché c'era sottostante una concessione che avrebbe conferito a chi sarebbe subentrato tramite l'acquisto dell'azienda la possibilità di aggiudicarsi una serie di benefici in termini di continuità di imprese che andavano oltre alla durata dei contratti di servizio sottostanti quindi diciamo che dipende dal contesto se non avessimo avuto la concessione a cappello del contratto avremmo dovuto forse più probabilmente prendere riferimento il contratto di servizio e quindi una durata limitata in questo caso quindi è stata fatta una stima questo era un piano evidentemente è stato sviluppato un piano che era stato sviluppato in ambito di ristrutturazione dell'impresa e è stato individuato un risultato netto intorno ai 50.000 euro con la precisazione che nel primo anno di piano era in realtà presente una perdita di circa mezzo milione però interamente derivante da componenti straordinarie che quindi in coerenza con i principi di valutazione che abbiamo già esposto sono state spunte non sono state considerate quindi utilizzando come riferimento il reddito medio atteso di piano emergerebbe come vedete da formulare presentata un valore dell'avviamento pari a un milione e sette che posto sommato al disvalore del patrimonio netto alla data di riferimento portava una stima del valore dell'azienda di circa 600.000 euro e questo poi effettivamente è stato il prezzo di aggiudicazione quindi questo per dirvi ecco il tasso in questo caso è stato applicato nella misura dell'11,7% calcolato secondo in linea con i criteri che vi verranno poi esplicati e appunto ha determinato una valutazione di questo tipo che è stata poi posta alla base delle scelte utilizzate adottate dal management per la dismissione dell'azienda io direi che se ci sono domande se no passo la parola perché credo di essere andata oltre grazie Elena per la tua lucida e completa presentazione del metodo ecco vorrei fare solo una considerazione prima di sentire la relazione di Luca su questa slide noi vediamo che in basso a destra abbiamo la rappresentazione dell'avviamento secondo questo metodo che mi dice in buona sostanza come viene determinato attraverso una attualizzazione dei sovraredditi il sovrareddito è dato da R che è il reddito medio prospettico che si immagina questa azienda sarà capace di realizzare nell'arco temporale oggetto di valutazione e poi quella redditività che è data da I2 sul patrimonio K che è il patrimonio netto rettificato quindi è la parte reddito in eccesso rispetto alla capacità reddituale in base alla dotazione del capitale investito netto della società questo modello si basa sostanzialmente su un orizzonte temporale che non può essere infinito non siamo sulle metodiche di valutazione come quelle della rendita perpetua perché qual è l'assunto alla base di questo metodo è che per quanto sia bravo come imprenditore che riesce a realizzare dei sovraredditi in futuro prima o poi a meno che operi in un contesto in cui sei solo tu il portatore di quella licenza o di quel prevetto nel mondo ma bene o male prima o poi ci sarà operando in un mercato concorrenziale le imprese concorrenti dovrebbero prima o poi nell'inseguimento raggiungerti e quindi questo differenziale reddituale che probabilmente anche competitivo nel tempo si abbassa e quindi sparisce poi la nostra azienda fa altri investimenti però il concetto il modello è questo fatta questa precisazione serve perché è avvincente come tutte le formule in modelli matematici statistici che noi troviamo quando leggiamo testi o paper di cultori della materia perché il modello matematico affascina un po' quel sapore di un po' il cappello magico metto dentro qualcosa e viene fuori qualcosa che è il risultato di ciò che sto cercando e dietro il modello matematico a volte uno si schiera dicendo ma insomma è un modello matematico non è l'ho inventato io e quindi funziona però attenzione perché ci sono il modello matematico non è la panacea di tutto bisogna sempre calarlo al contesto valutativo perché diversamente come valutatori da qui a poco abbiamo ragione di sparire con tutti i modelli di intelligenza artificiale di cui ci stanno raccontando vi consiglio di leggere per chi non abbia già fatto un articolo pubblicato su info eotecna di stamattina di Giancarlo Lione splendido non solo condivisibile molto di più è importante la capacità di discernimento la capacità critica del valutatore guardate questo modello come funziona se K è negativo funziona sempre questa roba qua io faccio la valutazione non è detto che il mio patrimonio netto post rettifiche di valutazione sia positivo se diventa negativo mi cambia quel segno funziona questo modello quindi attenzione sempre che dietro una formula che ha il fascino di riassumere sintetizzare un percorso valutativo poi ci vuole sempre un'analisi profondamente critica per capire se quell'automobile che in cui entro per fare un percorso mi tiene sulla strada o mi porta fuori strada grazie passo allora la parola a Luca Malfatti che ci parlerà di un altro tema importantissimo sempre sull'argomento che stiamo trattando grazie allora sì il tema che affrontiamo adesso riguarda proprio le correzioni di valore secondo quelle che sono le previsioni da una parte dei principi contabili e dall'altra dei principi dei principi di revisione abbiamo più volte nel corso degli interventi precedenti trattato il tema del piano e dei tassi sono due aspetti che vengono ripresi evidentemente tanto da parte dei principi contabili quanto da parte dei principi di revisione e devo dire che sicuramente c'è centralità su questo tema per gli aspetti legati da una parte ai piani e dall'altra ai tassi centralità ma anche crescente difficoltà e crescente complessità sia con riferimento all'uno che con riferimento all'altro soprattutto in condizioni di crescente incertezza e di crescente volatilità ecco quindi si aggiunge sicuramente della complessità ad un tema che già di per sé è complesso sappiamo il tema del trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni è trattato e disciplinato da un principio contabile che per chi applica i principi contabili nazionali e l'OIC9 per chi applica invece i principi contabili internazionali sarà l'OIAS 36 in buona sostanza quello che viene richiesto è di verificare se il valore recuperabile di una immobilizzazione laddove per valore recuperabile di una immobilizzazione si intende il maggiore fra il suo fair value e il suo valore d'uso ecco se quel valore recuperabile è inferiore a quello che è il valore contabile in questo caso se questa condizione si verifica allora la immobilizzazione deve essere iscritta deve essere rilevata al valore recuperabile inferiore rispetto al valore contabile e questa perdita di valore quindi questa minusvalenza da valutazione deve essere iscritta a conto economico questo esercizio è un esercizio che viene richiesto ad ogni data di riferimento del bilancio quindi ad ogni data di chiusura del bilancio è necessario fare questo tipo di esercizio e soprattutto in quell'occasione è necessario verificare se esiste un indicatore un indicatore cosiddetto di impairment cioè un indicatore che ci segnala che è verosimile immaginare che una immobilizzazione possa aver subito una perdita di valore se la risposta è affermativa quindi esiste un indicatore che ci segnala che quella immobilizzazione potrebbe aver subito una perdita di valore allora dobbiamo procedere alla stima del valore recuperabile il tema di nuovo degli indicatori di impairment è un tema che diventa ancor più centrale e ancor più delicato se vogliamo di nuovo in una condizione o in un contesto di incertezza o di volatilità quali sono alcuni possibili indicatori di impairment alcuni possibili indicatori di perdite durevoli di valore un primo indicatore ovviamente è rappresentato dal valore di mercato che può essere diminuito in maniera significativa in maniera importante più di quanto in realtà si potesse prevedere questo è un primo indicatore di impairment è evidente che ulteriori indicatori di impairment possono essere rappresentati da eventuali cambiamenti importanti cambiamenti significativi in quello che è il contesto in quello che è l'ambiente tecnologico nell'ambiente di mercato nell'ambiente economico piuttosto che anche dell'ambiente normativo e qui volendo potremmo aprire come dire una parentesi molto molto ampia su quello che riguarda ad esempio i rischi di cui oggi molto si tratta i rischi ISG in modo particolare quei rischi di tipo I legati alla dimensione ambientale e soprattutto nell'ambito di questi con riferimento ai cosiddetti rischi di transizione che sono come dire indotti anche da cambiamenti tecnologici piuttosto che da cambiamenti normativi che potrebbero in realtà rappresentare o costituire degli indicatori di impairment l'esempio che spesso faccio è quello di immaginare a uno scenario dove la mobilità sarà una mobilità sempre più alternativa da un punto di vista anche normativo ci si sta orientando verso una mobilità che sostituisce il motore termico con il motore elettrico questo è un rischio di transizione che evidentemente può costituire un indicatore se vogliamo di impairment posso aggiungere una cosa è uscita è stata pubblicata l'altro giorno la direttiva green housing che cambia tutto dal 2030 adeguamento di tutti gli immobili sotto la classe energetica F quindi esatto e quindi e di nuovo i cambiamenti anche non solo tecnologici di mercato ma anche i cambiamenti normativi possono essere o essere potenziali indicatori di impairment lo stesso vale ad esempio evidentemente nel caso di una evidente obsolescenza piuttosto che nel caso di un evidente deterioramento fisico di una determinata immobilizzazione qui ovviamente ci riferiamo a delle immobilizzazioni che sono immobilizzazioni di tipo materiale ma è evidente che al tempo stesso anche un inutilizzo l'inutilizzo di una immobilizzazione l'inutilizzo di un'attività materiale oppure l'avere avviato i piani di dismissioni nell'ambito del settore nel quale l'impresa opera beh anche questi evidentemente non possono che essere indicatori di impermente quindi che cosa ho rappresentato in questa slide ho rappresentato il classico diagramma di flusso per cui ci dice che evidentemente la prima domanda che dobbiamo porci è se esiste un indicatore di impermente se non abbiamo evidenza di indicatori di impermente e questo è un aspetto che poi rileva anche sotto il profilo del del principio di revisione ecco ma se non esiste un indicatore di impermente mi fermo non devo fare nient'altro se invece esiste un indicatore di impermente allora mi devo domandare se il fair value il cosiddetto valore equo è superiore al valore netto contabile di nuovo se il fair value e quindi il valore equo di quella immobilizzazione è superiore al valore netto contabile di nuovo posso fermarmi diversamente devo determinare il valore d'uso vedremo poi la distinzione di significato fra valore equo e valore d'uso dove si richiamano proprio i temi del piani e dei tassi quindi se il valore d'uso è maggiore rispetto al valore se il valore d'uso è inferiore al valore netto contabile di nuovo mi fermo diversamente invece dovrò procedere ad una iscrizione a conto economico di una minusvalenza da valutazione come vi dicevo quindi i due riferimenti sono da una parte il fair value o valore equo dall'altra il valore il valore d'uso il fair value viene definito come prezzo che si percepirebbe per la vendita di una attività o in alternativa prezzo che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in quali condizioni? beh evidentemente in condizioni di regolare operazione quindi un'operazione non stressata ma in condizioni di regolare operazione tra operatori di mercato evidentemente alla data di valutazione in realtà poi la determinazione del fair value è estremamente complessa estremamente articolata nel senso che ci sono alcune attività materiali o immateriali per i quali può essere più o meno agevole per altri invece può essere molto più complessa la determinazione del fair value il valore d'uso invece richiama i concetti che abbiamo visto in precedenza il concetto di piano e il concetto di tasso al quale devo andare ad attualizzare dei flussi di cassa quindi il valore d'uso è il valore attuale dei flussi finanziari attesi dei flussi finanziari futuri che immaginiamo possano essere originati possano essere determinati da un'attività lungo quella che è la sua vita utile quindi evidentemente la determinazione del valore d'uso presuppone da una parte la stima e il tema della stima lo ritroveremo poi nei principi di revisione quindi comporta la necessità di determinare o di stimare quali saranno i flussi finanziari in entrata e i flussi finanziari in uscita e poi presuppone evidentemente l'applicazione di un adeguato tasso di attualizzazione di quei di quei flussi in modo particolare se guardiamo al valore d'uso quindi che cosa che cosa è richiesto è richiesta la stima abbiamo detto dei flussi finanziari stima che deve avvenire sulla base dei più recenti piani aziendali approvati dall'organo amministrativo quindi si tratta di piani che anche dal punto di vista come dire della governance se vogliamo richiedono secondo i principi contabili una formale approvazione da parte dell'organo amministrativo tipicamente in questo caso l'orizzonte temporale non deve superare i cinque anni ma verosimilmente per un aspetto che abbiamo in qualche misura già accennato in precedenza più a largo l'orizzonte temporale di stima e di riferimento più o con maggiore insistenza su quel piano ho un rischio che è il rischio di execution di quel piano per il periodo poi eccedente il piano che abbiamo detto non poter essere superiore ai cinque anni la stima dei flussi deve avvenire secondo i principi contabili deve avvenire ad un tasso di crescita che sia stabile o ad un tasso di crescita in diminuzione quindi ci sono come dire anche delle indicazioni puntuali per quanto riguarda la stima dei flussi di cassa attesi oltre l'orizzonte temporale coperto dal piano e poi a sua volta il tasso di attualizzazione il tasso di sconto deve riflettere quelle che sono le valutazioni correnti del mercato quindi si tratta di valutazioni di mercato e non di valutazioni come dire entity specific come si usa come si usa dire sappiamo peraltro e questo è consentito dai principi contabili nazionali che in alcuni casi è consentito un approccio che è definito approccio semplificato ovviamente l'approccio semplificato è consentito sostanzialmente con riferimento a quelle che sono le micro imprese piuttosto che con riferimento alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e quindi è chiaro che applicare ad una micro impresa piuttosto che ad una società che redige il bilancio in forma abbreviata un modello di imperment complesso come potrebbe essere invece per le aziende di più grandi dimensioni evidentemente sarebbe complesso sarebbe difficoltoso di fatto l'applicazione dell'approccio semplificato si basa sostanzialmente su due assunzioni la prima assunzione è quella per la quale di fatto l'unità generatrice dei flussi di cassa nelle società che sono di più piccole dimensioni coincide con la società la seconda assunzione è quella per la quale i flussi di reddito soprattutto se quella che la dinamica del circolante si mantiene stabile approssimano quelli che sono i flussi di cassa quindi sono due assunzioni che come dire ben si sposano ben si adattano ad una realtà che è appunto una micro impresa o una impresa di piccole dimensioni quindi il valore recuperabile in questo caso nel caso dell'approccio semplificato viene proprio determinato sulla base di quella che è la capacità di ammortamento dei futuri flussi o nei futuri esercizi sulla base in questo caso del ferveglio quindi nel caso evidentemente di una struttura produttiva nel caso di un'impresa che eventualmente è articolata ed è organizzata secondo rami d'azienda che producono dei flussi di ricavo autonomi ecco l'approccio semplificato in questo caso deve essere applicato con riferimento ai singoli rami d'azienda quindi come se fossero come dire delle entità in qualche misura autonome è chiaro che in questo caso abbiamo come dire un'ulteriore semplificazione nel senso che il fatto che alcuni esercizi chiudano in perdita non implica di fatto o automaticamente l'obbligo di svalutare a condizione però che complessivamente altri esercizi siano in grado di o dimostrino la capacità dell'impresa di generare degli utili capaci di compensare in questo caso le perdite detto questo che cosa che cosa dicono i principi di revisione beh è chiaro che abbiamo detto la abbiamo visto come la metodologia di determinazione del valore d'uso sia una metodologia che ovviamente fa ampio uso di stime quindi la metodologia di determinazione del valore d'uso si caratterizza per una particolare complessità si caratterizza per l'uso di stime evidentemente stime che per loro natura sono come dire incerte sono al tempo stesso anche soggettive stime che abbiamo detto riguardano in primis la determinazione dei flussi di cassa attesi in entrata e in uscita ma non solo stime che riguardano anche quelli che sono poi i tassi di attualizzazione quindi dal punto di vista come dire della revisione un aspetto chiave un aspetto fondamentale è proprio rappresentato dalla presenza di una forte componente di stima di una forte componente in alcuni casi definita di tipo judgmental nella definizione di determinate grandezze in questo caso quindi richiamiamo uno specifico principio di revisione l'ISA italia 540 revisione delle stime contabili e della relativa informativa quindi anche l'informativa a supporto delle stime dove si dice di fatto che l'obiettivo in questo caso delle revisore è quello di andare ad acquisire degli elementi degli elementi probativi sufficienti e appropriati in merito al fatto che le stime contabili e non solo le stime contabili ma anche la relativa informativa in bilancio siano ragionevoli perché ovviamente ad un concetto di stima dobbiamo applicare un concetto di ragionevolezza peraltro poi il principio richiama altri richiama l'ISA italia il 315 il 330 il 450 il 500 che insistono di nuovo su un tema di stime è chiaro poi peraltro che nel valutare o nell'analizzare o nel trattare il tema della stima è chiaro che dobbiamo tenere conto di diverse modalità di declinazione di questa grandezza è chiaro che la complessità nella formulazione di una stima dipende in misura determinante da quello che è il livello di incertezza che in quel momento insiste sulla determinazione di quella stima dipende evidentemente dalla complessità dipende da quella che è la componente di soggettività o come dicevamo di tipo judgmental dipende anche da una serie di fattori di rischio e dipende anche da quelle che sono le interrelazioni fra i fattori di rischio sappiamo che i rischi di fatto sono fra di loro correlati possono esserlo direttamente o inversamente correlati ma esiste comunque una correlazione fra i fattori di rischio ovviamente il tema delle stime da un punto di vista anche contabile non si esaurisce con la valutazione della perdita di valore di attività in questo caso non correnti ma anche quando approcciamo all'obsolescenza di magazzino abbiamo a che fare evidentemente con una voce di bilancio che risente di una componente di tipo judgmental questo vale ad esempio anche per l'ammortamento di immobili e di macchinari si tratta di andare da un punto di vista contabile a stimare ad esempio quella che è la vita utile di un immobile o di un macchinario lo stesso ovviamente per quanto riguarda la valutazione degli strumenti finanziari e questo vale in modo particolare per quegli strumenti finanziari complessi o per quegli strumenti finanziari che non sono negoziati in un mercato liquido o in un mercato di tipo regolamentato lo stesso ovviamente se pensiamo alla stima per quanto riguarda l'esito di eventuali contenziosi o l'accantonamento per perdite su crediti dove di fatto dobbiamo andare a stimare un rischio che è il rischio di controparte abbiamo detto sicuramente la perdita di valore delle attività non correnti ma ad esempio anche i ricavi che riguardano i contratti a lungo termine quindi quali sono sostanzialmente le principali procedure di revisione beh alcune di queste dal mio punto di vista fanno in generale riferimento anche ad una più ampia valutazione di quello che è il sistema di controllo interno che sicuramente è un aspetto fondamentale sul quale basare la strategia di revisione per cui analizzare quella che è la procedura applicata nell'esecuzione dell'imperment test ed eventualmente è approvata dagli amministratori è sicuramente un primo step quindi accertarsi dell'esistenza di una procedura e quindi valutare analizzare quale procedura viene adottata allo stesso modo valutare se esistono dei criteri e analizzare quali sono i criteri di identificazione delle cosiddette CGU cioè delle unità generatrici dei flussi di cassa l'analisi della presenza di indicatori di impairment anche in questo caso abbiamo detto che la presenza o l'assenza di indicatori di impairment determinano lo sviluppo dell'intero processo in assenza di indicatori mi fermo in presenza di indicatori proseguo è evidente che anche in questo caso è fondamentale l'esistenza anche formale di quelli che si ritengono essere gli indicatori di impairment di volta in volta significativi quindi da una parte l'analisi della presenza di indicatori e dall'altra evidentemente anche della loro ragionevolezza l'altro aspetto fondamentale riguarda evidentemente proprio stante la loro centralità come abbiamo detto in precedenza l'analisi di quelle che sono le previsioni dei flussi di cassa futuri associati a ciascuna unità generatrice dei flussi e soprattutto verifica poi della loro coerenza con quelli che sono i flussi di cassa complessivi che leggiamo a livello di piano a livello di business plan l'altro aspetto l'altra ulteriore procedura consiste nella valutazione in questo caso di quella che è la ragionevolezza delle previsioni che sono state formulate dagli amministratori e che sono alla base del piano il piano ovviamente si nutre di 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 previsioni si nutre di assumption evidentemente si tratta di valutare la ragionevolezza di quelle ipotesi la ragionevolezza di quelle assumption anche confrontando quello che è lo scostamento nel passato tra i dati di volta in volta consuntivati con quelli di carattere previsionale la presenza di significativi e sistematici scostamenti fra i dati a consuntivo con quelli evidentemente previsionali è un indicatore di un certo di un certo tipo determinazione verifica poi della determinazione dei tassi di crescita di lungo periodo e dei tassi quindi di attualizzazione esercizio particolarmente complesso dicevamo in condizioni di incertezza in condizioni di volatilità come potrebbero essere le attuali soprattutto per ciò che riguarda la stima e la determinazione dei tassi di lungo periodo evidentemente l'altro aspetto fondamentale riguarda l'analisi di sensitività se effettuata dagli amministratori è evidente che siamo abbiamo detto in presenza di stime e quindi è verosimile dover ragionare in termini di scenari alternativi possibilmente associare a questi scenari delle probabilità di accadimento verificare qual è la sensitività degli esiti della stima al variare delle assunzioni che sono state fatte e che sono utilizzate nel modello di imperme peraltro è evidente che uno degli aspetti che caratterizza abbiamo detto la stima è proprio rappresentato dalla complessità quindi anche dal punto di vista o meglio i principi in questo caso di revisione ci chiedono di valutare se in alcuni casi stante eventualmente la complessità della stima è necessario avvalersi del contributo di risorse o di conoscenze specifiche richieste proprio dal grado di complessità della stima dal grado di incertezza della stima dalla complessità del metodo e del modello utilizzato si faceva in precedenza riferimento all'uso di modelli matematici è chiaro che in alcuni casi potrebbero essere necessari modelli matematici o modelli statistici particolarmente evoluti che potrebbero richiedere competenze specifiche e poi in generale verifica delle modalità con le quali quella stima contabile è stata effettuata quindi qual è la scelta del metodo applicato perché evidentemente ciascun metodo può essere più o meno funzionale in funzione di quelle che sono le caratteristiche anche della valutazione se vogliamo quali sono stati i criteri che hanno guidato nella scelta delle ipotesi delle assumptions piuttosto che dei dati che sono stati utilizzati e da ultimo è richiesto poi ancora la acquisizione in questo caso di attestazioni attestazioni ovviamente scritte da parte della direzione piuttosto che da parte dei responsabili del sistema di governance attestazioni in merito al fatto che i metodi che sono stati utilizzati le assumptions che sono state formulate i dati che sono stati anche qui utilizzati per effettuare le stime contabili e anche per predisporre evidentemente la relativa informativa siano stati o siano come dire coerenti siano consistenti siano appropriati per conseguire una rilevazione una valutazione ma anche un'informativa che sia coerente in generale con quello che è il quadro normativo sull'informazione finanziaria nel caso specifico applicabile evidente che in tutto questo riveste ovviamente un ruolo se vogliamo fondamentale proprio anche tutta la parte di informativa proprio perché è necessario dare evidenza di tutta una serie di aspetti che hanno guidato l'intero processo di stima grazie grazie Luca mentre c'è il cambio slide colgo l'occasione per riagganciarmi all'intervento state attenti proprio in questo quando si va a fare o si è in profumo di imperman test il classico frase non ci sono gli indicatori e quindi rimane tutto immobile però state attenti questo potrebbe valere non vale ma potrebbe valere già per il bilancio ma se stiamo andando a fare una valutazione d'azienda non bisogna guardare in faccia nessuno lì bisogna a un certo punto capire ma qual è il valore del sottostante non è che lo teniamo in piedi perché nel bilancio c'era perché nel bilancio hanno letto il principio contabile hanno guardato gli indicatori e hanno detto ma sì va bene e allora non mettiamo nessun tipo di valutazione perché state attenti perché magari va bene 80 volte su 100 ma nelle 20 dove si prendono dei valori che in realtà non stavano in piedi da nessuna parte ovviamente quello è un elemento essenziale allora quando si parla appunto degli indicatori di crisi e molte volte si cerca di dire speriamo di non dover andare a fare l'imperman test quindi tutto sommato non c'è questi indicatori state attenti perché la valutazione diventa ancora più rilevante lo è già prima ma diventa ancora più rilevante sotto il profilo della valutazione l'imperman test si apprezza quando voi iniziate a fare le valutazioni a se site perché il metodo quello ordinario che poi è quello che crea problemi perché il metodo semplificato è fatto su flussi economici quindi si solleva il problema dell'attualizzazione il metodo ordinario che invece è basato su flussi se noi andiamo a vederlo bene è molto complesso perché sarebbe l'attualizzazione dei flussi ma che inizialmente dovrebbero essere prodotti dal singolo asset poi visto che il singolo asset non si riesce a determinare il flusso si va sulla cash generating unit più piccola la più piccola composizione nel nostro realtà parliamoci chiaro già la piccola composizione non sappiamo da che parte andare sul flusso quindi è possibile che andiamo a espandere questo perimetro andando a cogliere quelli che possono essere punti vendita quelli che possono essere unità complesse anche in questo caso l'attualizzazione del flusso viene fatta con il weighted average cost of capital perché i principi che avevano preso dall'OIAS 36 dicevano tu dovresti calcolare il tasso del singolo asset nessuno mai o almeno noi non abbiamo scienziati che ci calcolano quello allora si ripropone a quello delle società quando si fa la revisione si può partire da una parte che non è necessario dire va bene come avete calcolato è giusto è sbagliato si inizia a chiedere l'avete calcolato questa è già la domanda cruciale perché poi quando ti manda le carte capisci se devi intervenire dopodiché un test veloce senza ancora diventare i geni del weighted average cost of capital è quello di dire ma esistono delle quotate che nel loro bilancio o che operano nel settore anche solo similare ecco prendete il bilancio delle quotate scrivete tasso attualizzazione o WAC che in realtà sarebbe WAC e via dicendo e le società quotate nella loro informativa gli danno quello allora non dico che quello sia giusto ma quello può essere uno spunto perché se voi avete una società poverina che non sta né in cielo né in terra perché siete lì per decidere l'imperment test è difficile che sovriperformi quella che è una società quotata che copre il nostro settore che magari distribuisce fior di utili allora questi piccoli accorgimenti fanno sì che in realtà da un lato ci si difenda perché prendere i dati di bilancio c'è un rischio sostanziale e dall'altro però anche iniziare a ragionare su questi aspetti è utile perché l'imperment test nella parte quella dei flussi finanziari che è quella che deve essere attualizzata rientra nella votazione dell'azienda chiudo perché se no poi rubo troppo tempo tenete presente un'altra cosa quando si parla di 3-5 anni e uno dice 3-5 anni esatto quella è la valutazione nella quale uno che prende una penna in mano se scrive delle proiezioni potrebbe trovare qualcuno che rimane convinto ok quando nel mondo finanziario così come anche per l'imperment test si va oltre quel valore c'è un escamotage che deve essere considerato che normalmente è il terminal value allora il terminal value cosa vuol dire quale sarà il flusso da dopo il piano o alla data esatta di termine del piano quindi questo è molto interessante perché si ricollega a un discorso il terminal value che sarebbe i flussi poi successivi che possono essere anche sintetizzati in un unico valore ad esempio comunemente se sceglie un indicatore si mette la rendita perpetua quindi un valore di flusso si spera non uguale a quello all'ultimo anno perché nei piani che vediamo noi c'è normalmente una crescita esponenziale di capacità intelligenze andando avanti però si prende un dato normalmente prudenziale e c'è una costruzione su quello allora questi due aspetti sono molto collegati e comunque richiedono anche non necessariamente una costruzione sofisticata però fa tutta la differenza del mondo avere delle accortezze su questi punti e non lasciarla come tema per matematici o grandi società che magari si deliziano con questi conteggi bisogna stare invece molto attenti non a caso è fondamentale valutare anche semplicemente la consistenza dell'assumption guardando proprio in quale misura nel passato determinate grandezze si sono mosse se ho un piano che ha prospettive di crescita fantastiche e lo confronto con una serie storica più o meno profonda dove invece sostanzialmente ho una stabilità nei dati nei valori beh insomma quel piano deve essere evidentemente supportato da adeguate assumptions perché viene smentito in qualche misura dall'esperienza dall'esperienza passata e come si diceva tutto questo è reso ancora più complesso veramente in condizioni come le attuali dove ovviamente abbiamo sperimentiamo una maggiore instabilità una maggiore volatilità una maggiore incertezza quindi già di per sé la stima è complicata se poi la collochiamo in un contesto ancora più incerto e volatile evidentemente quello che è la difficoltà cresce se vogliamo in maniera esponenziale grazie dicevi piccoli accorgimenti direi fondamentali accorgimenti quelli che qui hai parlato anche ritornando un po' sul tema della delicatezza nel prendere i dati di bilancio sull'esistenza di elementi che richiamano l'esigenza di fare l'imperment estra teniamo presente ad esempio che ci sono dei contesti in cui ci sono delle società che hanno delle partecipazioni iscritte in bilancio e una modalità un po' spiccia è quella di andare a vedere il valore di iscrizione della partecipazione rispetto alla consistenza di netto patrimoniale della partecipata e non è quello un elemento che chiama o no a fare l'imperment estra perché se la mia partecipata batte sul conto economico già da qualche tempo o anche soltanto ultimamente una perdita importante io sono chiamato a fare una verifica di congruità del valore di iscrizione della partecipazione nel tempo e a volte si scopre che il patrimonio netto è ancora dotato rispetto della partecipata rispetto al valore di iscrizione della partecipazione però se poi andiamo a fare l'imperment estra e vediamo i piani che il consiglio di amministrazione della partecipata ci mette davanti agli occhi considerando che siano piani naturalmente ben strutturati con fondamenti ragionevoli e scopriamo che a volte bisogna operare delle rettifiche di valore importanti quindi questo anche richiama una sensibilità che va oltre l'attività del valutatore che magari è chiamato proprio a fare la relazione di impairment che viene acquisita dal consiglio di amministrazione e citata nella nota integrativa a volte anche perché è sollecitata dalla sua televisione ma richiama anche proprio le responsabilità che a volte ricopriamo come revisori o come componenti degli organi di controllo il tempo che mi è rimasto a disposizione sarebbe in realtà finito ma io confido sul quarto d'ora accademico di estensione e quindi taglierò un po' però gli argomenti che sono stati rappresentati dei relatori che mi hanno preceduto sono stati davvero molto compressi cioè due ore per trattare temi enormi immensi è veramente un'operazione difficile quindi apprezzo tutti quanti mi hanno preceduto per essere riusciti a contenere le loro relazioni magari questo è uno spunto Luca per fare degli eventi magari un po' più dedicati su questi temi e così avere anche una possibilità di uno scambio anche portando sul campo esperienze di vita professionale insomma questo è utile per tutti scambiare e vedere le difficoltà che troviamo nella nostra attività di valutatore ma allora io quindi concentrerei il mio speech sugli aspetti che forse hanno diciamo così degli aspetti di utilità delle regole che possono in alcune circostanze aiutarci nel nostro compito di valutatori però nell'ambito nella dimensione della piccola e media impresa che poi vuole dire sono gli ambiti di valutazione in cui ci spendiamo più frequentemente e vuole dire anche con maggiore difficoltà perché a volte mi è capitato di leggere e di sentire che valutare una grande azienda è molto difficile sì perché ci sono degli aspetti complessi però io insomma ritengo che le volte mi sono trovato a fare una valutazione tra contesti aziendali organizzati e contesti aziendali più piccoli e quindi meno strutturati c'è una difficoltà nell'attività di valutatore assolutamente non paragonabile perché abbiamo un ritorno informativo nel primo caso molto più facile e vorrei dire anche più accurato rispetto al secondo caso quindi il tema che noi ci troviamo le difficoltà quando ci troviamo quando valutiamo le piccole e medie imprese e vorrei dire lasciamo perdere le medie imprese le piccole imprese e sono sostanzialmente due difficoltà importanti di cui però dobbiamo tenere conto perché questo la consapevolezza di queste difficoltà ci porta a fare un disclaimer nella perizia io purtroppo non ho potuto partecipare nell'intervento precedente dove sono intervenuti docenti autorevolissimi come il professor Cagnasso e spero che anzi sono sicuro che hanno dato dei caveat importanti quasi di salvavita al valutatore tenete presente che l'aspetto mi ricordo una relazione efficacissima che avevo seguito in un convegno dell'OIV a Milano un relatore che aveva detto nella perizia contano due paragrafi il disclaimer è quello finale dentro c'è tutto il resto hai ragione il disclaimer è quello che salva la vita perché individuo tutte le difficoltà che ho incontrato nel mio percorso valutativo certo che se poi faccio una rassegna di difficoltà insormontabili è meglio rimettere il mandato piuttosto che poi tirare fuori un numero quindi le difficoltà quando ci troviamo a valutare una piccola impresa sono la povertà delle informazioni aziendali di tipo gestionale e di tipo prospettico penso che sia capitato a tutti voi a volte va bene questo è lo storico mi fai vedere cosa vedi davanti chi ti trovi davanti a volte è una responsabile amministrativa che sa di contabilità chiama l'imprenditore o l'amministratore con la solita risposta e dice Rossi ma io non so cosa succederà tra tre mesi figuriamoci tra uno o due anni e quindi ti tronca lì e tu vediamo cosa fare e a volte qualcuno dice va bene non è come dire strutturato provo a costruire i flussi futuri i flussi finanziari o reddituali però attenzione che è un compito un po' che può delineare una situazione un po' di ambiguità perché sono il valutatore o sono l'imprenditore allora se do la mia disponibilità ad assisterlo per guidarlo un po' a darmi una rappresentazione di quello che è il suo futuro allora sì gli do un'assistenza ma non è che devo io poi sostituirmi a lui e fare il piano perché se no è un'attività che può compromettere e anche in caso di una contestazione di quella perizia posso trovarmi delle contestazioni che siano che sono difficilmente difendibili quindi povertà delle informazioni asimmetrie informative da governare e il secondo problema ci sono tanti problemi ma diciamo quelli più rilevanti quelli più importanti il secondo è l'assenza di valori di mercato direttamente riferibili all'azienda oggetto di valutazione quello che si diceva prima che spesso modello matematico poi banche dati allora ci sono quelle a pagamento che costano una fucilata e quindi uno cerca di andare su fonti gratuite che sono quelli di Damodaran è un massimo esperto mondiale sulle valutazioni chi ha voglia e tempo si legga i suoi paper sono illuminanti a volte è un'intelligenza veramente raffinatissima pregevoli queste banche date perché sono pro bono pro bono lui è veramente uno che studia e lavora per la conoscenza e la diffusione per la conoscenza poi certo la sua fama mondiale attraverso la diffusione gratuita di queste banche dati dà sicuramente un ritorno economico però è una banca dati aggiornata i metodi di valutazione sono metodi di valutazione statistici e matematici sono condivisi dalla dottrina mondiale e quindi è una banca dati di riferimento molto molto utile però ritorniamo sul punto principale la coerenza dei dati esposti in queste banche dati che hanno come riferimento società quotate rispetto al contesto di valutazione che l'alfa srl 10 milioni di euro di fatturato e se va bene chiude con 200 mila euro di utile come legano allora noi sappiamo che tra l'altro perché sempre nella parte iniziale nostre perizie noi dobbiamo citare i principi italiani di valutazione perché questi da quando sono stati emanati approvati devono rappresentare un po' la bibbia del valutatore però è anche vero che sono i principi sono delle asserzioni di valore certo qui mi piacerebbe poter trovare come si valuta la PMI e seguirla pari pari proprio una guida no sono principi quindi sono asserzioni di valore però è anche vero che nella dottrina quella più accreditata è stato più volte sollevato già quando hanno diffuso in bozza i principi italiani di valutazione hanno detto beh gli diamo un po' un riferimento un'indicazione operativa come valutare le PMI esempio me ne cito tanto alcuni uno della dottrina autorevole conosciuto è Brugner piuttosto che lo stesso Bini eccetera innanzitutto sarebbe stato utile avere un'indicazione nei principi italiani di valutazione su un principio di proporzionalità e processo valutativo sì abbiamo una serie di principi ma valgono per le quotate e non mettiamo dentro un riferimento di proporzionalità per le non quotate quelle più piccoline oppure ancora indicazioni operative per la costruzione dei tassi di cui io devo tenere conto quando valuto la piccola e media impresa non è che ho la pretesa che tu mi scriva nel principio italiano di valutazione come si determina il tasso che devo prendere per la PMI ma un percorso operativo per costruirmelo e poi sarebbe stato questo sì veramente molto importante se qui dentro ci fosse stata una previsione e una maggiore enfasi sulle informazioni di tipo qualitativo piuttosto che quelle quantitativi io sono il primo ad affezionarmi quando vedo un articolo dove c'è una formula un modello matematico spesso io e lui ci sentiamo in questa forma di depravazione ormai è una depravazione io ho trovato questo articolo io te lo giro non ci ho capito niente e noi siamo lì che ce lo leggiamo e proviamo a comprendere come gira però bisogna disaffezionarsi disaffezioniamoci a questo approccio perché nel contesto valutativo che ci troviamo in modo più ricorrente ad approcciare le informazioni qualitative sono molto più importanti di quelle quantitative o meglio un approccio qualitativo qualifica ancora di più l'approccio di valutazione che sarà adeguatamente contemperato da aspetti quantitativi e da quelli qualitativi e poi darò una dimensione pratica a quello che sto dicendo qualitativi vi do qualche indicazione allora non vi passo la rassegna tutto questo non è che sto qui facendo non voglio assumere il critico dei PIV non ho le competenze né l'autorevolezza per farlo però prendendo spunto da alcune osservazioni che sono state fatte da soggetti persone molto più autorevoli del sottoscritto anzi basta dire autorevoli ci dà una dimensione che insomma si è la nostra bibbia di riferimento però qualche pezzettino manca diciamo che queste osservazioni che sono state fatte quando erano in bozza i PIV sono poi state recepite adesso non vi passo in rassegna i PIV i vari passaggi nei PIV dove si cita c'è un riferimento alle modalità di valutazione della PMI quando poi ne avremo un po' più di tempo magari faremo una giornata non tutta sui PIV perché sarebbe veramente mortale però richiamando qualche aspetto quindi passando poi ad esaminare gli aspetti di natura più prettamente pratica attenzione che la situazione in cui noi a volte ci troviamo è quella di essere il responsabile della stima questo a prescindere dalla qualità dei dati su cui l'abbiamo basata e dall'altra parte basare il processo di valutazione sui dati che sono stati acquisiti allora la regola salvavita qual è? è quella di avere un'assoluta trasparenza nella nostra perizia noi dobbiamo ben rappresentare quali sono i limiti del set informativo che noi abbiamo acquisito qui ritorno non possiamo naturalmente fare una rassegna di limiti insormontabili perché sennò la perizia non può essere svolta però dei limiti che in un certo senso hanno costretto il nostro costretto un termine eccessivo diciamo nel quale nel perimetro nel quale noi abbiamo dovuto contenere la discrezionalità come valutatori a mio avviso è puntuale e può salvare la vita perché poi quando la perizia va in mano a una ctu o un giudice a un giudice che poi chiamo il suo ctu e chiede conto dei dati delle assunzioni di quanto rappresentato insomma se lì poi dobbiamo dire eh sì ma questo non potevo verlo ma questo è tutto esposto chi legge la perizia deve sapere quali sono stati qual è il contesto e il perimetro dentro il quale è avvenuto la valutazione allora sui tassi i tassi sono il tema diciamo di maggiore difficoltà no cui ci misuriamo quando facciamo una valutazione d'azienda in realtà sono i flussi per chi si imbatte a volte in modo malcapitato su una valutazione di CF e devo avere i flussi allora chiedi i flussi prospettici al CDA o al CFO chi per lui e ti danno dei dati che non stanno in piedi ora piuttosto che prendere dei flussi perché è difficile cioè non pensiamo quando facciamo un rendiconto finanziario non so voi ma a me non quadra mai al primo colpo immaginiamoci costruire dei flussi di cassa prospettici è un'operazione non facile allora anche qui una indicazione operativa che ben si calza sulla PMI è quella di costruire a gambero i flussi di cassa cioè parto dalla dimensione reddituale voi sapete che i profili le impostazioni sulla valutazione azienda sono di natura finanziaria e di natura reddituale quelle di natura finanziaria sono quelli anglosassoni perché ritengono che quelli che sono sulla parte reddituale siano un po' di minus abens perché prendendo il dato reddituale è sempre un po' viziato dalle politiche di bilancio soprattutto nel contesto aziendale e quelli invece che amano il reddituale dicono ma il reddituale è qualcosa che io riesco una dimensione più tangibile sul reddituale ed è anche più facilmente costruibile rispetto al finanziario in realtà ormai questa contrapposizione si è superata anche perché se i criteri sono applicati bene i risultati a cui pervengo devono essere sostanzialmente molto simili non quadranno l'unità di euro ma devo arrivare allo stesso punto quindi una semplificazione nell'ambito della piccola e media impresa è partire dal dato reddituale il NOPAT che è il reddito operativo al netto delle imposte là gli aggiungo l'escursione del circolante netto e come lo costruisco sul dato storico è facile in chiave prospettica come lo costruisco il 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 delta del circolante netto qui metto due due dati così li possiamo perché naturalmente io sono arrivo sempre per ultimo e quindi le slide non sono riuscito a prepararle però poi le mettiamo a disposizione quindi il mio flusso di cassa partendo dal dato reddituale parto dal NOPAT che è reddito operativo quindi quello che in bilancio troviamo differenza da valore della produzione e costi della produzione da quel dato lì gli tolgo le imposte e arrivo il NOPAT poi qui ci mettiamo il delta CCN e poi il delta CAPEX e ho così il mio flusso di cassa non solo delta quello sta per delta quindi come lo calcolo il delta CCN quando io sullo storico lo so fare ma in chiave prospettica e anche qui faccio una valutazione che può essere determinata applicando una percentuale sui ricavi delle vendite naturalmente guardo il contesto valutativo guardo anche una coerenza con i dati storici perché se applico che ne sono il 30% dei ricavi e ottengo un delta CCN che è sei volte il delta CCN che vedo nei rendiconti finanziari passati forse non ho ben tirato la stima e il delta CAPEX è la differenza tra gli investimenti e le dismissioni di investimento faccio la somma di questi tre o il mio flusso di cassa operativo quindi questa è una semplificazione dicevamo i tassi i tassi è molto complesso determinarli allora uno dei tassi che noi troviamo in modo più ricorrente è il VAC che è nient'altro che il costo del capitale dell'impresa allora leggiamolo in modo semplificato questo tasso è una media ponderata dove mi dice noi sappiamo benissimo che il capitale di un'azienda è dato da fonti interne e fonti esterne fonti interne è il capitale proprio fonti esterne sono tutte le fonti finanziarie parliamo di fonti finanziarie esterne quindi banche leasing soggetti factoring soggetti finanziatori bene questi capitali hanno un costo allora K con E è il costo del capitale proprio cosa significa il costo del capitale proprio è il costo opportunità che l'investitore ha rispetto a una alternativa di investimento è quello che si studiava all'università quando si faceva economia politica uno non so se c'è ancora quando si determinavano quando si studiavano le scelte e si faceva e si imparava che cos'era la quando si studiava l'utilità marginale e lì avevamo imparato cos'era il costo opportunità ecco questo è il costo opportunità del capitale proprio K con E e vedremo come si calcola che la parte è più difficile in questa formula l'incidente di percorso le difficoltà sono K con E che è un gran casino il rapporto di leverage che è la struttura finanziaria K con D il costo del debito questo è abbastanza facile non è molto difficile e T abbiamo già detto qualche cosa prima le osservazioni puntualissime del professore su questo vi dico una cosa se può esservi di interesse c'è una tabella un metodo un po' datato dell'IAF che proprio sul metodo WEC in cui ci ha parlato prima Elena dà un riferimento temporale da prendere in considerazione le valutazioni d'azienda che è determinato in base alla redditività aziendale per cui tu ti fai tutti i tuoi calcoli patrimonio netto rettificato più l'avviamento hai quei parametri e se sei entro in un determinato range cadi in un arco temporale 1-3 anni se sei in un altro range 5-7 se sei in un altro range sopra i 7 allora io non so se è ancora attuale questo range però il criterio è logico quanto più elevata è la redditività di un'azienda tanto più tempo ci vorrà prima che assottigli quei sovraredditi quindi il meccanismo funziona se poi mi fa piacere vi do i riferimenti allo studio non so se ce l'ho ancora però vi do proprio lo schemino in modo tale che avete il modellino per la determinazione di T allora questo è il VAC che è il tasso che mi dà l'indicazione del costo del capitale allora K con E è il costo dell'equity abbiamo detto e vediamo come si deve calcolare come si calcola questo K con E qui adesso sto raccontando tutto il casino che uno dovrebbe seguire per calcolare questi tassi e poi all'esito tutto questo la domanda sarà ma quando valuto una piccola impresa posso fare una roba del genere poi spero che con quello che vi dico dopo che dovrebbe essere una soluzione sia una soluzione apprezzata che non ho inventato io perché se no a quest'ora avessi inventato questa roba qui sarei da starei non lo so starei su una spiaggia diciamo così allora dicevamo K con E come si calcola allora c'è un metodo che ormai è quello assolutamente diffuso che è il metodo del CAPM cioè del Capital Asset Pricing Model questa è la formula K con E è dato da due dimensioni di valore uno R con F che è il tasso risk free più un'altra dimensione di valore che è il rischio chiamiamola così è il tasso di remunerazione del rischio cioè quel soggetto per mettere un euro in quell'azienda quanto deve essere remunerato perché l'investimento sia giustificabile dovrà essere remunerato per un qualcosa che sta sopra il tasso risk free perché se no se non è scemo l'investitore e per teoria per assunzione non è scemo perché è un soggetto informato se non fosse adeguatamente remunerato cosa fa si prende un titolo di stato sta tranquillo il suo rischio è basso e gli basta così quindi i 100 euro per metterli in quell'azienda devono essere remunerati a un tasso congruo che è appunto questo K con E che è dato il tasso risk free più un delta che remunera il rischio di perdita dei suoi 100 euro se li mette in quell'azienda ecco questa seconda dimensione di valore è un discreto casino perché beta è il tasso diciamo così il coefficiente che dà la misura del rischio sistematico questo che è l'ERP è il rischio specifico allora soffermiamoci sul beta perché è il vero elemento di complessità e cioè che cos'è questo beta allora è il coefficiente abbiamo detto espressivo del rischio sistematico non è eliminabile perché non posso eliminarlo attraverso la diversificazione del portafoglio e nelle società quotate ribadisco nelle società quotate è calcolato a partire dai rendimenti delle singole azioni e dai rendimenti del mercato azionario con questa formuletta dove sigma numeratore è la deviazione standard dei rendimenti delle azioni emesse dalla società che è oggetto di valutazione il denominatore che è sigma con mu non sapevo fare mu ho messo m è pari alla deviazione standard dei rendimenti dell'intero mercato azionario rho è il coefficiente di correlazione tra i due rendimenti e quindi ottengo beta io dovrei quando calcolo la piccola valuto la piccola impresa fare questa roba qua dal momento che è impossibile farlo dove vado a sbattere vado su da Modaran dico oh ma da Modaran me lo dà beta guardalo qua sta tutto qui basta che becchi il settore di riferimento giusto e io mi sono risolto il problema qui se sono nel settore dei trasporti aerei dei ricambi di auto eccolo qua il mio beta e lì ce l'ho calcolato e me lo sbatto lì in questa formula così un problema l'ho risolto l'air la stessa cosa vado su da Modaran me lo sbatto dentro e finalmente ho questo risk free quello lo posso calcolare io perché mi vado a prendere i titoli di Stato generalmente il BTP è 10 anni mi prendo volore medio 6-12 mesi lì c'è anche una parte attiva mia nel calcolo del K con E e sono a posto ma il problema è non tanto risk free ma sta roba qua è coerente rispetto al contesto di valutazione se io mi vado a prendere le tabelle da Modaran e qui se sono qui nei ricambi di auto qui questo dato è stato calcolato prendendo un campione di 59 aziende come sono queste sono tutte quotate la mia la quotazione non la vedrà mai mai la vedrà quindi poi attenzione ma qualcuno mi è venuto Gesù Cristo che mi ha detto che la mia è proprio uguale a queste 59 aziende che tra l'altro sono tutte uguali tra di loro benissimo ma questo beta è stato calcolato sulla base di un leverage debito fratto equity pare 61,98 allora qualcuno cosa fa dice vabbè io mi prendo da Modaran poi so che devo rileverarmi questa roba qua perché quei 59 hanno una struttura finanziaria fatta così mi vado a calcolare la mia struttura finanziaria mi prendo mi rilevero il beta e così ho il beta mio qualcosa ci ho messo anche io sul mio beta tasso riscrive l'abbiamo detto proprio il mio il beta l'ho messo l'ho avvicinato un po' alla mia società poi qualcuno raffinato gli dà pure un colpo con Bloom e quindi dice gli ho dato proprio due accorgimenti che sono tutti miei però il tema è ma i riferimenti di base che sono in questo caso qui 1,40 è un riferimento che posso prendere in considerazione e io sono molto critico su questo posso anche prenderlo questo ma io nella perizia devo scrivere quali sono i punti di contatto del mio contesto di valutazione rispetto a questi dati è un'operazione molto difficile oppure posso partire da questo 1,40 e non solo applicarmi a Made Bloom per mettermi a posto il beta ma devo prendere quell'1,40 scardinarlo andarmi a prendere costruirmi una deviazione standard dei rendimenti della mia società prendendo un riferimento temporale che sia anche adeguato nel tempo non negli ultimi 2-3 anni ma magari 10 anni per poi arrivare a un dato che mi dà dei segni o elementi di incoerenza maggiore allora cosa faccio prima di dire cosa faccio e mi avvio alla conclusione perché sennò diventa una tortura ancora una precisazione sul tasco di script 3 dove ci ho messo veramente del mio attenzione perché anche lì c'è chi prende i boom tedeschi ma li prendo perché mi faceva comodo perché poi alla fine abbiamo un orientamento sul valore che bisogna arrivare e col boom tedesco c'è stato un periodo che sempre sto boom tedesco c'è stato un periodo che non c'erano soltanto parlo un po' di anni fa prima i cct poi c'erano i btp poi c'è stato un periodo in cui si è arrivati pure i bot non so per quale motivo poi si è tra e poi si è a boom tedesco anche lì il riferimento sul tasso di script deve essere ragionato deve essere motivato c'è qualcuno che si prende i btp a 5 anni perché l'orizzonte temporale di riferimento è a 5 anni non è così io devo avere una stabilità devo fare una valutazione prospettica in termini in ottica di stabilità del tasso quindi se io mi prendo non è devo prendere un tasso di una durata che è coerente con il mio profilo con il mio orizzonte temporale di valutazione se scriviamo una cosa del genere non ha proprio alcun senso meglio non scrivere niente come diceva il buon Piccati che quando uno scrive si inchioda quindi anche lì attenzione e qualcuno va a prendersi proprio il btp si va a cercare l'emissione proprio vicino al periodo temporale di riferimento devo valutare il 31 dicembre 2023 mi vado a cercare delle cilenti di emissioni tra novembre e gennaio no si prende una media del btp decennale medio tempo 12 mesi insomma ci sono anche già i dati in Banca d'Italia per cui non devo neanche andarmi a fare la media ok dicevamo il beta è una gran complicazione allora cosa posso fare posso fare e richiamo quella richiesta che avevano fatto alcuni alcuni studiosi di una dotazione di natura maggiormente qualitativa in ottica di valutazione allora una soluzione quale potrebbe essere quella di costruirsi un beta qualitativo non lasciamo perdere correlazioni devianze eccetera eccetera costruirsi un beta qualitativo secondo la teoria di Fernandez che non è il centrocampista dell'Arsenal ma è un studioso anche lui raffinatissimo che ha fatto uno studio e delle valutazioni puntuali proprio sulla piccola e media impresa e come si costruisce il beta guardate che costruirsi il beta ritornando alla formula vuol dire risolversi tutta sta roba qua quindi R con F abbiamo detto ci arriviamo noi vuol dire avere subito questo secondo addendo quindi K con E è risolto eccolo qua si vede e qui ci sono dei rimasugli di una valutazione che ho fatto cancello vabbè tanto non è nominativa mi è rimasto lì allora questa doveva essere nelle slide ma ve lo metto a disposizione adesso poi appena ritorno in studio lo metto a disposizione come è costruito questa roba qui allora qui ci sono gli ambiti di riferimento che sono caratteristici dovrebbero essere caratteristici dell'indagine sulla PMI proviamo a vederli le caratteristiche del settore in cui opera l'azienda queste l'imprenditore dovrebbe arrivarci a dir ma no generalmente è gente che lavora da vent'anni in quel settore qualcosa dovrebbe sapermelo dire la leva operativa questo è molto importante questo la leva operativa non ce lo dice però possiamo calcolarla noi la leva operativa attenzione perché una società che ha un'incidenza dei costi fissi molto alta rispetto ai costi variabili ebbè avendo una leva operativa molto alta vuol dire che è maggiormente esposta a perdite se io ho una leva operativa molto alta se mi scendo scendo 100 di fatturato e i costi fissi continuano a battere lo stesso e quindi ho un rischio di conseguire una perdita a differenza di una società che ha una leva operativa bassissima quindi costi variabili che coincidono costi fissi zero se scendo 100 di fatturato scendo 100 di costi variabili e quindi non mi tocca sul risultato poi l'importanza è la qualità del management qui chi man l'ho aggiunto io non c'era così nella tabella di Fernandez la strategia e il vantaggio competitivo come è collocata quali sono le strategie dell'imprenditore la struttura proprietaria sono in due sono in dieci la leva finanziaria vedete che fa leva che fa pandanco la leva operativa è una società molto indebitata è una società molto indebitata sul conto economico picchiano ogni anno oneri finanziari che hanno una dimensione non mutabile quindi la volatilità storica dei flussi se è storia su quello se non mi aiuta l'imprenditore posso arrivarci io accesso alle risorse finanziarie qual è il merito creditizio di questa società è squilibrata finanziariamente ha un buon rating rischio valuta e tasso di interesse dipende se opera o meno con il mercato estero e la liquidità dell'investimento è una società che questa messa sul mercato è facilmente monetizzabile allora qui ci sono dei pesi questi sono i pesi che ha segnato Fernandez quindi io qui non ho messo niente e ovviamente la somma di tutto mi dà 100 no? questi dal momento che sono io il valutatore posso naturalmente rimescolare questi pesi però attenzione quando vado ad assegnare i pesi qui devono avere una coerenza rispetto a tutte le aree indagate certo che se io ho una società che non è indebitata e che non ha rapporti con l'estero extra way non ho nessun tipo di rischio in quell'ambito lì e quindi vabbè qui è segnato 5% di peso ma se ci fosse stato assegnato 25 ragionevolmente lo devo ridurre perché è una società che non è esposta in quell'ambito e quindi avere 5 su 100 è ragionevole in una situazione in cui non ho proprio indebitamento e non ho rischio valuta forse varrebbe addirittura la pena eliminarlo o dargli un valore di riferimento 1 io consiglierei di non eliminare mai nessuna di queste voci magari aggiungerle se manca qualche riferimento nell'ambito di valutazione però non eliminarle e quindi spostare un po' i pesi poi devo assegnare i punti di rischio vedete qui è qualità non c'è quantità non c'è approccio quantitativo è solo qualitativo e le classi di rischio vanno da 1 a 5 non c'è 0 perché nessuna di quest'area nessuno di questi contesti può essere valutato 0 anche nell'ipotesi in cui io non ho indebitamento e non ho esposizione verso l'estero adesso non ce l'ho ma in futuro potrei avere una apertura sul mercato o esigenza per investimenti da effettuare potrei avere esigenza di far ricorso all'indebitamento quindi gli attribuisco punti di rischio che vanno da 1 che è basso a 5 che è molto alto e gioco questo punto è fatto perché è una ponderazione mi prendo il peso lo moltiplico per il rischio e ho i risultati faccio la somma di tutti i risultati e ho questo punteggio che è 2,36 sono già la metà del lavoro compiuto per calcolarmi il beta la somma di tutte queste mi dà 2,36 che è A poi 0,5 allora questo è un coefficiente allineato con Fernandez che è stato determinato vista la distribuzione dei beta aggiasti delle società quotate italiane che per il 97% sono compresi in questo range da 0,43 e 1,45 quindi se faccio la media tra 0,43 e 1,45 arrivo col 0,5 ma questo per dirvi che c'è una motivazione non è uno 0,5 buttato lì così quindi prendiamo il dato di Fernandez è fatta perché faccio 2,36 per 0,5 ottengo 1,18 e ho il mio beta il mio beta è il beta della società KSRL o SPA non è un beta di un campione di 57 quotate che opera nel mercato americano quando la società Z il mercato americano non lo vedrà mai quindi nella formula nel VAC sono finalmente riuscito a calcolare il K con E o il risk free più il beta o il K con E il secondo punto abbiamo detto che è il costo del debito il costo del debito può essere una variabile un tasso che posso ricavare o da un'informazione interna è una società che strutturalmente fa ricorso al capitale di debito mi vado a calcolare l'onerosità media di questa società nel accesso al capitale di terzi oppure lo posso rilevare da fonti esterne a mio avviso è preferibile la dimensione la dimensione del mercato del finanziamenti mi dà un'indicazione di valore più coerente rispetto al modello di valutazione e quindi la soluzione qual è? quello di andarmi a prendere il tasso interbancario o i tassi di mercato i medi di mercato per classi omogenei di operazione quindi vado a prendere un valore che mi ritrovo cercando facendo una ricerca in banca dati ma vado su adesso io ne utilizzo generalmente uno ma potrebbe essere quello di Borsa Italia piuttosto che Banca d'Italia o anche il sito di una grossa banca come Intesa San Paolo Unicredit riferimenti sui tassi di interesse di mercato ne abbiamo mille grazie a Dio dicevo un'altra soluzione potrebbe essere quella di prendermi che è quella che generalmente adotto io ma non sono bini quindi farete come vorrete è quella di prendere il tasso risk free quindi un tasso privo di rischio e aggiungergli uno spread che è lo spread che remunera una società che ha una struttura delle fonti come quella che sto valutando cioè se la mia società è squilibrata finanziariamente quindi ha un poche poche dotazione di netto patrimoniale e più capitale di terzi ha un peso sul conto economico di un'euro finanziario importante che in modo altrettanto importante dei primi risultati esercizio allora anche lì ci sono delle tabelle di riferimento dove si vede che la società con quella dotazione con quella struttura finanziaria si colloca in una classe che viene individuata con che ne so BBB piuttosto che AA più a ciascuna di queste classi è attribuito uno spread e lo vado a sommare al tasso risk free e così ho il mio costo del debito proprio su questo tema se posso aggiungere io ad esempio vado anche a verificare per vedere se c'è coerenza se sono stati fatti dei finanziamenti alla società in un tempo vicino a quello della valutazione perché con reti in bancario a quel punto il tasso che è stato applicato potrebbe essere ovviamente rispettando quella che è la distanza temporale potrebbe essere un dato coerente di riferimento perché è basato su reti in bancario già valutato in funzione dei modelli bancari che prendono in considerazione i dati specifici della società uno studio interessantissimo di Bini che è stato pubblicato sul sito dell'OIV sulle modalità di determinazione della struttura finanziaria allora la dottrina dice che la struttura finanziaria che dovrebbe prendersi in considerazione non è quella della società oggetto di valutazione ma dovrebbe essere la struttura finanziaria ottimale allora questo ci sono delle differenze di vedute per chi avrà voglia di leggersi questo documento andate proprio a mettere struttura finanziaria Bini lo trovate subito è libero su Google non c'è un orientamento comune in dottrina diciamo che dovrebbe essere quantomeno una struttura tendenzialmente equilibrata che cos'è questo LEV è il rapporto di leverage è il rapporto tra mezzi propri equity fratto il debito e questo qua è il complemento per cui se qua ho il 40% qui automaticamente avrò il 60% quindi dicevo anche se secondo i PIV la struttura finanziaria dovrebbe essere quella c'è una certa quindi io sto facendo una valutazione so che l'azienda dovrebbe effettuare degli investimenti nel futuro possono essere investimenti di mantenimento investimenti di sviluppo e questi investimenti vengono finanziati attraverso il ricorso al capitale di debito bene allora mi vado a costruire una struttura finanziaria che è coerente rispetto all'outlook della società nel periodo di tempo che ho preso come osservazione quindi mediamente tra i 5 anni se non voglio correre grossi rischi io sono andato non lungo ancora di più però vi vedo tutti insomma sopravvissuti vi ringraziamo per la pazienza la disponibilità e siamo naturalmente a disposizione per eventuali richieste se posso aggiungo solo due minuti ma non di più mi piace Federico di quella tabella il fatto che tra l'altro potrei fare anche un minimo di sensitivity cioè capire come si modifica il mio beta variando eventualmente i pesi piuttosto che il profilo di rischio sempre con riferimento al profilo di rischio è evidente secondo me quello che è emerso oggi nel calcolare nel fare una valutazione piuttosto che nel fare un test di impairment è centrale ma anche nel calcolo dei beta chiaramente è centrale il profilo di rischio dell'impresa ecco sul tema del rischio e dell'incertezza assieme a Federico ci stiamo come dire un po' impegnando ma direi quasi come si usa dire incaponendo su questo aspetto su questo tema ci piacerebbe veramente organizzare poi degli eventi dedicati eventualmente alla gestione di alcune specifiche fattispecie di rischio che insistono sulle imprese una di queste evidentemente l'abbiamo detto è il rischio legato all'evoluzione tecnologica da qui peraltro può dipendere anche la sopravvivenza alla continuità aziendale l'altro rischio che sicuramente insiste sulla piccola mia di impresa è il rischio di interruzione del business questi sono per esempio due fattispecie di rischio sulle quali ci piacerebbe dedicare un evento un seminario un paio di ore per capire come quelle fattispecie possono insistere sulle aziende e eventualmente in che modo dobbiamo tenerne conto nel momento in cui approcciamo quell'impresa bene è davvero finita grazie 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 a tutti